La giornata è piuttosto fitta di interventi, come emerge dal programma. Voglio ringraziare anzitutto, a nome di tutto il gruppo di ricerca, l'avvocato Massimo Messina, che viene in rappresentanza della Fondazione Pisa, che adesso ci porta i suoi saluti e che ha dato un contributo decisivo, nello svolgimento di questo progetto di ricerca, di cui oggi andiamo a presentare i risultati. Lascio la parola e ringrazio ancora. Sostituisco indegnamente l'avvocato Claudio Pugelli, presidente della Fondazione Pisa, impossibilitato all'ultimo di venire qua a portare i saluti e forse anche a presenziare. E quindi sono catapultato e mi trovo felicemente in mezzo a voi per questo breve tempo. Ho visto che questa è un'occasione molto ghiotta, perché tratta questo argomento le riviste gufine, che sono una fonte incredibile di notizie in un arco temporale dato. È un'opera decisamente meritoria, la Fondazione tutto sommato ha fatto una gran bella figura con uno sforzo economico direi abbastanza ridotto, con 10.000 euro siamo riusciti a consentire la realizzazione di un qualcosa che ha una valenza in sé decisamente assoluta e che costituirà la fonte di studio per tutto il tempo a venire, per ricerche che potranno segnare ancora la ricostruzione storica, ideologica di un periodo decisamente controverso. Tra l'altro mi ha fatto effetto, perché ho finito proprio di leggere in questi giorni un importante libro, molto carino, che mi ha regalato Adriano Prosperi, che è intitolato Mussolini e l'architettura. E già in questa pubblicazione vedere l'interesse del regime verso tutte quelle che sono le forme di procacciamento del consenso e indirizzo ideologico con qualunque strumento era fondamentale. Per quanto riguarda poi la rivista Gufina dell'Università di Pisa, sono convinto che sarà una vera e propria miniera e soprattutto in relazione non solo agli importanti contributi che sono nessi contenuti sia dal punto di vista ideologico-propagandistico, ma anche da quello come ho letto dalla scheda, relativamente alle arti figurative e a ogni tipo di espressione artistica. In relazione ad un territorio che non può essere compreso soltanto nell'ambito provinciale di Pisa, perché la nostra Università ha sempre avuto un'estanzione territoriale molto vasta, non c'era ancora il fenomeno della provincializzazione delle università che sono ormai diventate quasi dei liceo, quantomeno per numerose sedi, e quindi raccoglieva veramente studenti di un'area vasta, interregionale e non tanto importante, non tanto per questa vastità, quanto per la differente contribuzione che questi studenti, a seconda dell'area geografica, potevano apportare e anche probabilmente e forse rispetto al diverso approccio anche ideologico che potevano avere con il regime stesso. Ho provato una netta sensazione di invidia nei confronti del caro amico Paolo Nello, quando ho visto che lui già nel 1983 si era occupato dell'argomento, che io come storico del diritto, interessato anche alla conservazione dei documenti e al loro esame in una fase diacronica, ritengo sempre di notevolissimo interesse. Quindi a questo punto non mi resta altro che fare e ringraziare voi che avete contribuito a questa raccolta documentale, che ripeto sarà sicuramente una volta messa in circolazione a disposizione di tutti, una fonte inesorribile di ulteriori studi ed approfondimenti. Ricordo per altro verso che la Fondazione è sempre disponibile a iniziative che abbiano un contenuto culturale, tra virgolette, di un certo rilievo, nell'ambito delle disponibilità cerchiamo sempre di essere presente. Ho soltanto un rammarico, che ve lo dico così, visto che in questi giorni a Pisa è in circolazione il film e fin qui tutto bene di Roman Johnson, che pure ci avevano chiesto un contributo e non gliel'abbiamo dato. In commissione mi sono trovato in netta minoranza, ero l'unico che l'avrebbe dato volentieri, mi ero letto il copione, la sceneggiatura, però non hanno ritenuto che il legame col territorio fosse poi così significativo da elergire la somma di contenuti economici insopportabili che era stata richiesta. Visto il film, avrei strozzato tutti gli altri miei colleghi componenti della commissione perché l'ho trovato gradevole e decisamente da favorire. Tutto quello che è emergente va tenuto presente e la nostra funzione deve essere anche questa. Buon lavoro a tutti e grazie. Arrivederci. La giornata di oggi non ha intenzioni o forma di convegno ben definito e destinato a trasformarsi in un volume di atti. Si vuole avviare, se è possibile dire così, in forma cerimoniale, si vuole avviare l'apertura di un cantiere di studio e di documentazione, un archivio innanzitutto. Questo archivio è formato dagli articoli di argomento artistico, nel senso più largo, che comparvero sulle riviste guffe, in particolare sul Campano, la rivista che usciva a Pisa. In particolare, dicevo, questa rivista perché è al centro di una ricerca finanziata dalla Fondazione Pisa presso il Laboratorio di Documentazione Storico-Artistica della Scuola Normale. Grazie all'assegno di ricerca annuale che è stato determinante per arrivare a finanziare un assegno annuale. È stato appunto possibile condurre questo lavoro. Se ne è occupato e parlerà oggi Vanessa Martini, dottoranda dell'Università di Pisa. E questo ha costituito una spinta ulteriore ad un progetto più ampio e di più ampio raggio. Un progetto che era stato avviato già alcuni anni fa da Mattia Patti, quando era lui perfezionante alla scuola e si era svolta all'interno di quello che allora era il Laboratorio di Arti Visive, ora diciamo confluito nel Laboratorio di Documentazione Storico-Artistica. A Mattia, quindi in collaborazione con l'Università di Pisa, dove ora Mattia insegna Storia dell'Arte Contemporanea, rimane affidata la definitiva messa a punto del progetto. L'intento scientifico che lo guida sarà meglio inquadrato subito dopo di me appunto da Mattia. Vorrei solo anticipare che l'intento fondamentale di produrre una base documentaria organica e facilmente accessibile, più facilmente possibile accessibile, corrisponde questo intento ad un'ispirazione diciamo scientifica, ma in fondo anche civile, che ha sempre orientato simili progetti all'interno della scuola normale, fin da quando molti anni fa, in via della Fagiola, fu avviata l'applicazione delle risorse dell'automazione anche nel campo degli studi umanistici. L'idea di fondo resta quella di costituire un archivio, un insieme documentario, che sia da una parte occasione di maturazione scientifica e professionale per giovani studiosi incaricati di realizzarlo, e però sia anche, possa rimanere, una volta concluso, costituito questo archivio, come un insieme a disposizione di chiunque se ne voglia servire, appunto, consultandolo in rete. Di fatti non si tratta soltanto di digitalizzare le pagine d'arte del Campania o delle altre riviste guffine, ma di renderle consultabili, interrogabili, attraverso lungo e diversi percorsi tematici, diversamente tematici, onomastici, eccetera, ossia in forza di un attento lavoro di schedatura e di automatizzazione. Scegliere riviste come queste per un tipo di lavoro di tale natura era apparso fin dall'inizio cosa particolarmente utile, sia per ragioni di ricerca che di tutela. E in questi stessi termini è stata proposta alla Fondazione Pisa il caso particolare del Campano. Non si tratta, intanto, di riviste di facile reperimento. Può capitare che l'intera collezione si conservi in una sola sede, ma con alcuni buchi, e non di rado la ricomposizione virtuale richiede di prelevare alcuni numeri in una biblioteca, altri numeri in altra biblioteca. Al tempo stesso occorre ricordare che le buone campagne di riproduzione e gli archivi consultabili a distanza sono anche lo strumento più efficace per garantire la salvaguardia materiale di documenti cartacei che non possono sopportare un carico d'uso prolungato ed eccessivo. Ci si potrà forse chiedere che senso abbia un impegno del genere, pur sempre condotto e con forze contenute, nell'età di Google Books simili. Non si vuole neppure ignorare che non siano partiti anche progetti contigui al nostro più o meno rivolti a questo stesso tipo di riviste. Il punto decisivo è che non si tratta di mera digitalizzazione, ma di un vero e proprio progetto di ricerca sfumato e particolare come ogni altro progetto di ricerca, che sedimenta tuttavia, come ho detto, un archivio automatizzato. L'incontro di oggi, appunto, come ho già detto, vorrebbe essere solo una prima occasione per cominciare a mettere in funzione, far conoscere questo progetto e per costituire una rete di relazioni scientifiche che sono già attive ma che, appunto, vorremmo mantenere vive. Ma perché sono state riprodotte e schedate soltanto le pagine d'arte, non tutte le riviste? Va detto, intanto, che già dopo una prima fase d'avvio si era giunti alla conclusione di considerare le pagine relative al cinema quanto meno è al teatro. e la scelta, nel caso del Campano e del gruppo Pisano, del cinema in particolare, si è rivelata, come oggi si vedrà, particolarmente necessaria. Nell'interesse per il cinema, appunto, anche l'interesse per il cinema nella città dove studiavano Carlo Ludovico Raghianti o Claudio Varisse, potrebbe essere ritagliato come cosa a sé stante. La delimitazione all'ambito artistico, imposta anche, ovviamente, da ragioni di competenza disciplinare, di agilità operativa e finanziaria, e da altri limiti pratici, non è poi così piccola. È tanto meno snaturante, perché la quota dedicata ai fatti figurativi non è certo marginale, sul Campano come tutte le altre riviste. Non lo è per quantità, ma non lo è soprattutto per ragioni qualitative. In quelle riviste scrivevano giovani fiduciosamente cresciuti nella culla dell'autonomia estetica crociana, che magari potevano incontrare all'università professori di più vecchia estrazione positivistica. Giovani che, più che aver letto l'estetica del 2, avevano consuetudine con il breviario d'estetica, ma anche con la storia d'Europa, con il croce storico, con il croce politico. Per diversi di loro è proprio attraverso il campo dell'arte, della letteratura, che passa in modo privilegiato quella maturazione politica che si fa improvvisamente tragica negli anni della guerra, ed è determinante negli anni della guerra. Scrivere su queste riviste è in qualche misura qualcosa di paragonabile alla partecipazione a lettoriali. Significa stringere legami con quei tani di altre sedi universitari, con interessi simili, con gli interessi di questa generazione, sono sempre poco precocemente accademici. È un'idea umanistica e di partecipazione a vasto raggio, in genere, non specialistica. Di conseguenza, non sembra conveniente sganciare una rivista dall'altra. Il progetto parte dal presupposto che le riviste gufine possano funzionare come una sorta di grande, magari slabbrato, sfumato, ma di grande corpus, quantomeno per chi voglia ripercorrere storicamente certe discussioni o la velocità con cui potevano circolare certe informazioni e certe idee. Sembra assai probabile l'ipotesi di ricerca, insomma, di una doppia azione, una su base locale ed una a largo spettro, specificamente giovanile. De resto, ancora nel 68 italiano, non si può trascurare il nesso fra il policentrismo universitario, che non era ancora devastato dallo spirito burocratico degli ultimi anni, appunto il policentrismo universitario che nel caso delle riviste gufine è anche un policentrismo rispetto alla sede maggiore. Certe pagine di Bassani o lettere sui ferraresi a Bologna potrebbero essere un esempio di questo policentrismo interno al sistema, alla rete allora più semplificata, molto più semplificata, delle sedi universitarie. E' un aspetto questo, molto importante, di una forte configurazione e spinta generazionale. Si pone quindi, attraverso la conoscenza, allo studio di queste riviste e rivistine, il grande tema della fisionomia generazionale. Era un tema che in sede storica e sociologica aveva conosciuto importanti riflessioni fra le guerre fino a quella, anche prima della Prima Guerra Mondiale, fino a quella al culmine negli anni venti del grande saggio di Karl Mannheim. Ma ora si poneva in tutt'altri termini, evidentemente non accademici, che non credo proprio arrivassero all'esperienza di questi giovani. Si poneva appunto in termini l'esperienza generazionale di vissuto, con un vitalismo anche pericoloso, ma comunque con una forte tensione politica e intergenerazionale. Naturalmente appunto la dialettica generazionale ha avuto il rilievo e il peso che ebbe nell'Italia della fine degli anni 30 e dei primissimi anni 40. Diversi anni dopo, nel 1962, Italo Calvino vedeva ancora la peculiarità di questo grande nodo collettivo, quantomeno grande nodo per una più larga elite intellettuale di questo paese. Diceva Calvino se il termine generazione ha un senso, la nostra potrebbe essere caratterizzata da questa speciale sensibilità della storia come esperienza personale. E questo valeva per l'Italia ma anche più o meno per tutti i paesi in cui vi è stata una rottura determinata dalla guerra e dalla resistenza. Questa è la citazione. Nel rifiutare soprattutto l'appoggio positivo, costatatorio, esteriormente quantitativo al grande tema delle generazioni, viste in ogni epoca e società, ma via via diverso, Karl Mannheim invitava a considerare la variabilità, l'incidenza particolare e non uniforme delle condizioni in cui una generazione viene a configurarsi. Nel suo modello teorico il legame di generazione, come lo chiamava, non veniva contraddetto, anzi, si svolgeva il rapporto al formarsi di gruppi che elaborano esperienze simili all'interno di questo stesso legame di generazione. insomma, ricuscio la citazione di Mannheim, si formano diverse, nell'ambito dello stesso legame di generazione, si formano diverse unità di generazione. Io credo che sullo sfondo ci sia nell'utilizzo di queste riviste questo grande tema. E da non addetto mi prova a ricordare che sia il legame generazionale complessivo, sia il formarsi al suo interno di filoni unitari e particolari, può emergere solo, e può emergere meglio, ma solo attraverso una riconsiderazione complessiva delle sedi di pubblicazione e delle discussioni che segnarono l'ingresso delle generazioni, l'ingresso, come dire, in scena sociale delle generazioni che emergono negli anni 30 e nei primissimi 40. In termini più immediati, credo che leggere uno scritto politico di Pasolini su Architrave, che era la rivista del guf bolognese, come non è il caso che però ricordi a voi, leggere questo scritto nel contesto originale non sia la stessa cosa che leggere nel volume delle opere complete dei Meridiani. Il nome di Pasolini non è venuto a mente del tutto a caso. Non molto tempo fa mi era capitato di leggere una lettera di Roberto Longhi del 15 settembre del 42 e di trovarci questo giudizio davvero duro sull'articolo che si intitola cultura tedesca e cultura europea Weimar che il giovanissimo studente friolano ma studente nella città nativa Bologna appunto aveva appena pubblicato. Scrive manda a dire Longhi ci ho visto anche in architrave un articolo di un Pippi Pasolini in verità un po' frivolo se prevede un prossimo dominio europeo della cultura italiana. Se non erro è la stessa persona che recentemente mi ha scritto progettando i miei argomenti di tesi una tesi una era sulla gioconda nuda un quadro che circola nei repertori di Leonardo Erdeschi ovviamente che chissà perché attirava particolarmente come oggetto di tesi Pasolini oppure uno è sempre Longhi che parla sulla pittura italiana moderna tu forse e lo chiedeva Longhi a Francesca Arcangeli che era il suo assistente volontario e redattore degli ultimi numeri della rivista Gufina la rivista su cui era comparso quell'articolo tu conoscerai questo signorino che conto c'è da farne non vorrei perdere tempo con un farfallino svolazzante nei prati fioriti dalla più inebriante e in concreta modernità a parte la personale passeggera in comprensione da una parte quel disparire evoca appunto un problema fondante della condizione generazionale quello del rapporto e dello scontro con altre generazioni non era un rapporto di scontro con la generazione dei maestri con Longhi in particolare quello che aveva Francesca Arcangeli le righe così sospettose su Pasolini che chiudono questa lettera appunto stanno alla fine di una lettera dove Longhi mandava all'allievo bolognese ad Arcangeli un bilancio complessivo degli scritti dello stesso Arcangeli degli scritti di critica d'arte pubblicati su Architrave scrive Longhi poi oggi verrà dato più organico e informato quadro dell'attività della rivista bolognese ma Longhi fa privatamente una sorta di recensione a quello che è il primo nucleo di scritti di critica d'arte del Giovane Arcangeli della tua attività su Architrave non mi chiedi me l'hai sempre comunicata in coppia e io l'ho naturalmente seguita attentamente dell'articolo su Carrà si ebbe già occasione di parlare degli altri mi è piaciuta la prima puntata sulla Biennale anche se ti sei forse un po' troppo amballé su Gentilini la seconda è bella nel pezzo su The Pieces ma il tono generale mi pare meno sostenuto e legato sulla pittura cialtrona di Bartolini c'era stato uno scontro epocale con Morandi con Ricadute poi sui figli diciamo sulla pittura cialtrona ed è in generoso il giudizio ovviamente che Longhi dà su Bartolini sulla pittura cialtrona di Bartolini c'era da essere anche più severi tanto da mettere di mezzo anche le acque forti nelle quali è ormai insopportabile credere che ovviamente è quello che assolutamente non è consentito a noi fare e lo sospettavo da un pezzo anche su De Chirico avrei lavorato di più perché se funerali hanno da essere siano almeno di prima classe bene anche la parabola evangelica è un testo di scontro invece con uno della generazione più o meno di Arcangeli ma non ti perdere dietro le combricole e le valsecchie era il bersaglio polemico attaccati a qualche cosa di più grosso non bisogna mai polemizzare con i piccoli buono anche il pezzo su Cassola ma anche qui tu parli di Cassola e dovresti parlare di Bilenchi e Pratolini e tutti i più grossi indifferenti e scrivo normale fra virgolette ma c'è sempre tempo a farlo resta sempre il problema centrale della tua fitta collaborazione ad Architrave che nonostante la tua buona volontà rimane sempre un giornaletto anche se si dà del coraggio negli stelloncini di prima pagina è sempre un coraggio guardato fra virgolette e sotto sbergo noto che nella prima pagina di Architrave i redattori di questa serie di numeri fra cui c'erano anche i fratelli Arcangeli Francesco e Gaetano si erano ripromovissi fra di loro di non nominare mai il nome di Mussolini almeno in prima pagina non doveva esserci poco dopo di fatti la rivista fu soppressa il destinatario della lettera rappresenta il caso tipico di autocoscienza generazionale di un'autocoscienza generazionale che si definisce però non necessariamente come una saldatura di un fronte ma anche nello scontro anzi soprattutto in questo caso nello scontro aperto con i companni di generazione è una consapevolezza generazionale che in Arcangeli rimane poi incubata negli anni successivi ed è destinata ad esplodere in una congentura del tutto diversa specificatamente neoromantica negli anni appunto dell'inferno ma in quel momento la situazione ovviamente era tutt'altra che al tempo della lettera di Longhi anche politicamente e Arcangeli scriveva nel numero successivo di architrave un articolo che Longhi non aveva fatto a tempo a comprendere nella sua rassegna ma che lo attirerà più degli altri tanto è vero che lo farà ripubblicare su proporzioni dice Arcangeli in questo articolo purtroppo non lo vogliono inserire nei due volumi naudiani si incontra oggi piacevolmente l'articolo sulla la giovane pittura italiana o di una radice malata si trova sull'antologia sull'ultimo dei volumi quarto dell'antologia di Paola Barocchi della versione daudiana quella major qui Arcangeli scriveva anche l'idolatria per la gioventù in quanto tale non l'ho mai capita non è un'affermazione di poco conto in questi anni l'idolatria per la gioventù non l'ho mai capita se ancora potrà giustificarsi su un piano di vita si commette peccato quando la si vuol trasporre sul piano intellettuale e creativo in arte la giovinezza è una stagione in cui ogni artista vero vuol dimenticarsi al più presto o perlomeno risuscitarla in una forma più alta e più viva va bene però da chiedersi se la lunga recensione discussione esame di coscienza ma un termine di evocazione serriana e arcangeli in questo momento ma anche dopo vedeva in serra un personaggio come dire condizionato dalla lettura che ne avevano fatto gli ermetici fiorentini appunto viene da chiedersi se quell'articolo quello che sarà poi ripubblicato su proporzioni fatto per ripubblicare da Longoli la radice malata se un articolo del genere poteva maturare in una sede editoriale diversa da quella una sede generazionale una sede direttamente di dibattito di dibattito appunto sul premio Bergamo è vero che l'abbiamo sempre letto nella versione solo un po' accorciata ma sostanzialmente identica con il titolo della giovane pittura italiana e di una sua radice malata che comparve in quella rivista l'annuario non annuario che Longhi aveva avviato in quel momento per sé per i suoi allievi ma perché non si pensi che il destino di queste riviste fosse almeno in prima uscita troppo l'atomico come si potrebbe pensare dal giudizio che Longhi dava ma è un giudizio come dire commisurata alla stima all'affetto alla grande considerazione intellettuale che aveva per l'allievo più manifesta che nei riguardi gli allievi che in momenti successivi perché non si pensi appunto che il destino di queste riviste fosse troppo l'atomico vorrei chiudere ricordando che in una lettera spedita allo stesso Francesca Arcangeli a metà di ottobre del 42 quando quell'articolo era già comparso su architrave Emilio Cecchi accademico d'Italia in mezzo a tante altre cose scriveva ho visto gli articoli sull'architrave quindi uno come Cecchi conosceva l'architrave non perché come all'allonghi gliel'avesse spedito uno dei redattori ho visto gli articoli su architrave buonissimi opportunissimi bravo è ora di far rientrare in casa il buon gusto e il senso comune per non adoperare parole più grosse che erano scappate lasciamo perdere il commento è evidente che c'è chi pensa ad altro ma questo interessa intanto come indizio che il filo delle generazioni della geografia culturale fu in origine più ampiamente distesso di quanto oggi si possa sospettare volevo solo dare un esempio con queste divagazioni di studio di una trama che può essere controllata meglio sapendo sfruttare al meglio gli strumenti della digitalizzazione e dell'archiviazione automatica che ovviamente come in altri strumenti di lavoro dalla tavoletta cerata alla penna d'oca si possono non sono mai inerti è vero ma dipendono sempre dall'uso critico che se ne fa benissimo mi aggancio mi aggancio allora mi aggancio a quanto detto appunto adesso nell'ultima parte del suo intervento da Massimo Ferretti proprio per introdurre questo mio intervento che vuole essere anzitutto una presentazione anche nella sua dimensione minimamente storica ormai di questo progetto di catalogazione che è nato come si è già detto si è già accennato è nato fondamentalmente come strumento di lavoro più di dieci anni fa della prima ipotesi di progetto di ricerca per la mia tesi di perfezionamento che iniziai appunto a fine 2002 qui alla scuola uno dei problemi che affrontai e dovete affrontare inizialmente fu quello di gestire di governare questo materiale enorme delle pagine d'arte appunto nelle riviste dei Guff questo era il titolo della tesi l'obiettivo della mia ricerca e cercando di selezionare di appunto di individuare delle linee di attraversamento di ricerca che fossero fruttuose e gestibili ero arrivato a formulare questa ipotesi di ricerca dopo aver compiuto una tesi di laurea sull'attività di giovanile di critico d'arte di Giovanni Testori del quale parlerò brevemente cercando di esemplificare un po' la natura e l'interesse uno dei motivi di interesse maggiori per gli storici dell'arte che stanno nelle riviste dei Guff e era immerso da subito molto chiaramente il fatto che di queste riviste nonostante gli studi allora in corso era ancora quando inizia il dottorato doveva uscire sarebbe dopo il libro fondamentale di Luca Larovere che mi seguirà appunto e che ha tracciato una storia proprio dell'organizzazione dei gruppi universitari fascisti ampia gli studi fino all'ora erano tutto sommato generano di importanti anche di carattere monografico come quello di Paolo Nello che aveva proprio messo a fuoco il caso del Campano ma una vera e propria mappatura ecco delle riviste e delle pubblicazioni periodiche edite dai gruppi universitari fascisti non esisteva come credo che tuttora non esista io sono arrivato nel corso dei miei anni due tre anni di lavoro su questo progetto a registrare oltre cento riviste molto diverse fra loro per consistenza per periodicità anche per interesse ci sono numeri unici di carattere tematico dedicati a problemi che assolutamente non toccano argomenti di carattere culturale o politico e sono magari dedicati soltanto allo sport o ad altri aspetti ci sono però riviste come Libro e Moschetto come la stessa rivista Pisana del Campano il gruppo molto importante di riviste di Forlì del quale vi darò qualche cenno oggi che hanno anni e anni di vita con una periodicità anche piuttosto regolare con una consistenza decisamente importante da un punto di vista proprio dei contributi ecco l'obiettivo era quello di creare una sorta di mappa cioè di anagrafe di schedatura anagrafica di queste riviste e questo obiettivo è rimasto come uno dei due fondamentalmente uno dei due traguardi che vorremmo darci anche oggi con questo rinnovato rafforzato progetto di ricerca e la schedatura allora vi faccio vedere questa galassia di voci di campi che costituisce uno schema a sua volta difficilmente gestibile perché fin troppo ricco di campi di temi e di aspetti che dovevano essere oggetto di schedatura nel primo strumento di lavoro con Andrea Ficini informatico del laboratorio artivisive ora nel laboratorio di documentazione storico-artistica usando access quindi uno strumento diciamo così offline proprio destinato a un uso personale immaginammo una rete estremamente complicata di relazioni che puntava proprio a inquadrare al meglio le riviste uno degli aspetti che proprio esaminando il caso di Giovanni Testori era emerso è che non appena ci si trova di fronte a voler fare la storia di una rivista bisogna cercare di distinguere le stagioni che questa rivista ha vissuto per le riviste i GUF questo vale ancora più perché c'è veramente un ricambio all'interno dei comitati redazionali che documenta a volte magari sottotraccia in maniera quasi nascosta delle modifiche radicali di prospettiva di orientamento di temi trattati non sempre il titolo il sottotitolo che noi abbiamo ci premuriamo sempre di registrare e di documentare in ogni modifica anche leggerissima sono sufficienti a chiarire questo aspetto l'esame del cosiddetto tamburino è ad esempio uno dei tanti punti sui quali ci troviamo tuttora appunto a lavorare con grande attenzione ovviamente questa struttura è stata poi snellita col tempo e vi farò vedere nella versione attuale alla quale siamo arrivati appunto oggi almeno l'interfaccia diciamo così di inserimento e di consultazione pubblica del database così come oggi però mi premeva anzitutto sottolineare questo aspetto di schedatura anagrafica fondamentale e al momento poi di scegliere i temi gli argomenti su cui affondare le mani lo sguardo con più attenzione ovviamente la necessità di operare con una selezione anche molto rigida e quindi di scegliere una schedatura di comprare una schedatura più approfondita degli argomenti più strettamente legati ai temi delle arti visive è stata una scelta obbligata però come già si è detto proprio nella giornata di oggi l'idea è quella di impostare e io vorrei dire proprio rilanciare in qualche modo questa idea di progetto che adesso ha una base ha uno schema è disponibile fruibile pubblicamente e per cercare anche la prospettiva credo sia inevitabilmente questa di costruire un gruppo di ricerca multidisciplinare e un gruppo di ricerca multidisciplinare che spero possa definirsi o comunque essere impostato a partire dalla giornata di oggi perché è inevitabile che il contributo di storici della letteratura storici del teatro storici del cinema di storici di studiosi di molte altre discipline deve in qualche modo entrare a far parte di un progetto più ampio che miri ad essere esaustivo il progetto nasce anche da subito cioè nasce terminata questa prima fase nacque anche l'esigenza di digitalizzare per avere a disposizione questi materiali proprio per i motivi anche di scarsa raggiungibilità e anche per le cattive condizioni di conservazione in cui versano tantissimi fascicoli a volte intere collezioni conservate nelle biblioteche pubbliche o negli archivi privati e al momento di compiere quest'opera di digitalizzazione ovviamente si è posto soprattutto laddove è capitato come nel caso di Forlì di trovare a disposizione in biblioteche pubbliche non solo le riviste ma anche fondi archivistici significativi legati alle riviste e ci si è trovati anche nell'esigenza di aprire in qualche modo un fronte nuovo diverso che è un fronte di approfondimento di carattere generale anche questo difficilmente gestibile da parte dei soli storici dell'arte e meglio affrontabile con un gruppo di ricerca più ampio il caso appunto delle riviste di Forlì è particolarmente significativo noi oggi disponiamo fortunatamente di un ricchissimo archivio che è quello di Walter Ronchi che è stato grazie al lavoro del figlio Rocco Ronchi e di Giovanni Tassani è stato raccolto ordinato e depositato e resto disponibile nella biblioteca Aurelio Saffi di Forlì e questo fondamentalmente costituisce un capitolo centrale un punto diciamo così di passaggio obbligato per chi voglia affrontare i temi legati alle riviste dei Gufi negli anni di guerra se non altro le riviste sono spettacolo e soprattutto per la storia dell'arte via consolare e pattuglia di cui vi faccio vedere qui una locandina destinata viene da dire alle edicole e il problema al quale si faceva riferimento alle edicole comunque ai rivenditori alle librerie probabilmente il problema della circolazione alla quale si è fatto riferimento con l'intervento di Massimo Ferretti è un problema decisivo abbiamo molte testimonianze le abbiamo all'interno delle pagine stesse delle riviste dei Gufi che la pubblicazione di articoli di contributi scatenava dei dibattiti che coinvolgevano non solo le riviste dei Gufi ma anche importanti testate che nulla avevano a che vedere con l'ambito dei gruppi universitari fascisti ecco capire definire di volta in volta il grado di circolazione appunto la tiratura un dato essenziale di cui purtroppo non mi è capitato mai di trovare indicazioni precise fino a ora è molto importante così come è importante tener conto anche dell'attività editoriale che si lega strettissimamente alle pubblicazioni dei Gufi soprattutto di alcuni Gufi e di alcune riviste e che ha un peso rilevantissimo nel caso della storia dell'arte dell'arte contemporanea in particolar modo tengo a precisare che uno dei casi più sconvolgenti e questo mi dà modo di entrare poi nel merito dei problemi d'arte di cui è capitato di occuparsi fino ad ora uno dei casi più sconvolgenti legato e ancora poco noto dagli studiosi legato alla pubblicistica gufina è la pubblicazione nelle edizioni di pattuglia che erano curate da Giovanni Testori edizione di pattuglia di Forlì Giovanni Testori nato a Novate Milanese viveva a Milano per cui questo ponte tra Milano e Forlì fa già capire come di fatto queste riviste molto spesso fossero aperte a reti di relazioni estremamente salde e fitte e nell'edizione di pattuglia vi dicevo nel corso del 1942 alla fine del 1942 venne pubblicato un volumetto curato dal giovanissimo esordiente Mario De Micheli con testi di Paul Éloire e disegni di Picasso e Picasso allora non era sicuramente uno dei nomi più facili da gestire in Italia se non altro dopo la pubblicazione dopo la diffusione di Ghirnica nella primavera estate del 1937 e guarda caso proprio per l'edizione di pattuglia in questo libretto molto raro furono pubblicati riprodotti numerosi disegni preparatori per Ghirnica a indicare proprio la traccia diciamo così indelebile e netta di una di una idea anche di un'apertura affatto scontata che non ci aspetteremmo insomma in una rivista pubblicata dai Guf e il caso di pattuglia come vi dicevo mi dà modo di toccare meglio uno dei motivi dei tanti motivi di interesse per gli storici dell'arte in particolar modo per i contemporaneisti perché le riviste come si è detto sono palestra per artisti per critici luogo in cui confluiscono anche contributi altrimenti persi o difficili da recuperare che circolavano nelle ultime edizioni dei littoriali della cultura e dell'arte spazi di discussione delle mostre degli appuntamenti degli argomenti appunto di maggior interesse da parte degli uomini di cultura del tempo e tra i tanti temi che intervengono con forza e con frequenza all'interno delle riviste i guf nomino soltanto alcuni di questi spesso a partire dagli anni venti poi più con maggior frequenza negli anni trenti all'inizio anni quaranta si cerca gli studenti si scontrano si confrontano anche aspramente sulla definizione di arte fascista che da parte delle istituzioni degli organizzatori di cultura a livello più alto non era stata in qualche modo risolta il dibattito arriva su primato si continua fino a dentro gli anni di guerra a discutere dell'identità della vera e propria definizione di arte fascista un altro tema che è interessantissimo tagliare all'interno delle riviste dei guffe è quello del rapporto con l'antico e conseguentemente quello del primato artistico dell'arte italiana è un tema estremamente delicato perché l'Italia aveva avuto nell'immediato primo dopoguerra questa ondata di ritorno al classico di riscoperta di linguaggi tradizioni tecniche dell'antico e nel corso degli anni 30 con l'esplosione in qualche modo della pittura murale e con questo col diffondersi anche in abito giovanile diciamo così della pratica all'interno delle accademie nell'orbita delle commesse pubbliche per la decorazione dei palazzi di cicli pittorici murali all'interno dei palazzi pubblici questo fatto tocca decisamente tanti artisti e critici che si occupano appunto d'arte nelle riviste dei guffe va da sé però che ripensare il passato e pensare l'identità dell'arte italiana proietta l'attenzione nostra anche su un altro grande tema che tocca soprattutto entra soprattutto negli anni di guerra che è quello del rapporto con l'arte internazionale con l'arte moderna in particolar modo l'esperienza delle avanguardie non era assolutamente come ben sappiamo ormai ignota agli artisti italiani la circolazione era fitta ampia consistente molti artisti furono fecero da tramite tra esperienze d'avanguardia e esperienze italiane il rientro in Italia nel 1935 di Gino Severini chiamato convinto dagli organizzatori della quadrennale da Cipriano e Fisioppo in primis a rientrare in Italia in occasione di questa grande grandissima mostra che si tenne in Roma nel 1935 segnò forse uno degli episodi principali di questo riaprirsi o dell'attenzione sull'esperienza dell'avanguardia ma ancora più importante e qui si torna a quanto dicevamo è il tema di Picasso è il tema della pittura impegnata e lontana dalle posizioni del regime che negli anni di guerra si fa sempre sorprendentemente più presente nei fascicoli periodici e anche come vi dicevo nelle pubblicazioni di carattere monografico legate ai guff e il discorso su Picasso si arricchisce spesso di toni che a dire il vero negli anni di guerra arrivano arrivano dai guff da un grande modello da un grande punto di riferimento che è quello della rivista e del gruppo di corrente corrente di vita giovanile la rivista ben nota pubblicata a Milano fra il 38 e chiusa d'imperio al ridosso dell'entrata in guerra la vigilia dell'entrata in guerra nell'ultimo numero esce datato 30 maggio 1940 e corrente è stato in qualche modo il luogo di incontro di molti giovani che tutto sommato dialogavano già con fittamente Renato Birolli Renato Guttuso in primis con l'attività che si svolgeva nei littoriali nelle riviste dei guff Ernesto Treccani il direttore della rivista aveva 17 anni per cui era in età nel 38 per cui era stava entrando in età propriamente universitaria allora la chiusura di corrente e il però il mantenersi in vita del gruppo dell'attività del gruppo milanese attraverso la galleria che rimase aperta fino al 1943 quando per una irruzione dell'ovra fu bloccata ogni attività appunto di questa galleria e l'attività appunto il modello di corrente funziona appunto come guida per moltissime riviste stampate negli anni di guerra e tra le esperienze più significative di questo periodo molte contano proprio un legame stretto appunto col gruppo di corrente lo stesso Giovanni Testori insieme a Mario De Micheli a Raffaele De Grada di poco più anziano e e e e a molti altri nomi compresi quelli gravitanti attorno all'attività teatrale Paolo Grassi Giorgio Streller di cui si farà accenno eh in interventi successivi oggi pomeriggio e prendono in qualche modo a dialogare a costruire una sorta di nucleo redazionale che da Milano tocca tante città compresa Forlì compresa Pisa e nel giro di di pochissimi mesi si viene a creare una vera e propria rete di rapporti è significativo che ad esempio la pagina d'arte di Pattuglia venga data a Giovanni Testori e Giovanni Testori abbia l'autorità eh quando ancora a 19 anni eh Testori era nato nel marzo del 43 di pubblicare su questa rivista eh di cui vediamo la copertina un omaggio monografico a Scipione a Gino Bonichi che era stato oggetto in quei mesi di una grande mostra alla Pinacoteca di Brera eh curata dai centri d'azione per l'arte Testori è come vi dicevo artista che eh scrittore eh soprattutto scrittore che eh contribuisce molto eh sulle pagine delle riviste di Forlì e non solo eh vi faccio vedere soltanto alcune immagini relative a questo omaggio a Scipione e proprio eh a Testori si deve anche l'organizzazione di questo omaggio alla pittura eh che eh costituisce forse il punto il culmine in qualche modo dell'esperienza eh gufina nel campo dell'arte contemporanea un numero monografico dedicato alla pittura italiana del novecento con un'intenzione molto forte eh di cucire assieme il passato recente e l'attività lo svolgimento la militanza in qualche modo molto libera molto aperta al dialogo con le avanguardie da parte dei giovani eh legati ai guf la copertina è una copertina di Guttuso una copertina che non doveva sconvolgere allora più di tanto perché erano disegni che uscivano abitualmente sulle pagine di primato questi che vediamo dedicati appunto alla guerra agli scontri al dramma della guerra che si stava consumando e non sconvolge appunto eh neppure in pattuglia la pagina dedicata eh a Guttuso a sconvolgere casomai è il modo eh forte eh quasi viene da dire politicamente impegnato di scopertamente eh non voglio dire antifascista perché non non sembra questo proprio la eh non sembrano questi termini della questione eh con cui viene speso un brano sulla pittura lo vedete eh tratto dai pensieri sulla pittura di Guttuso eh che erano usciti nel 41 su primato un'opera d'arte è sempre la somma dei piaceri e dei dolori dell'uomo scriveva Guttuso dell'uomo che l'ha creata intendo dire che non è necessario per un pittore essere di un partito o di un altro o fare una guerra o fare una rivoluzione ma è necessario che gli agisca nel dipingere come si fa una guerra o una rivoluzione come chi muore insomma per qualche cosa queste parole molto forti decontestualizzate dal resto dello scritto funzionano quasi come manifesto programmatico che accompagna i contributi di questo fascicolo dedicati agli artisti più giovani e fra tutti sorprende l'articolo di Mario De Micheli dedicato a Morlotti in cui De Micheli riferendosi a queste e ad altre opere che non erano riprodotte ma che erano ben note al pubblico da allora che visitava il premio Bergamo e altre mostre in gallerie private scrive appunto che per Morlotti il cubismo è l'insegnamento più alto dell'ultima pittura ma un insegnamento scrive De Micheli che va integrato con la tempera di Guernica il Picasso più forte emozionale ed eroico il Picasso che rende al mondo la sua statura senza effusione e paradisi ecco questo accostamento questo ponte che si può tracciare tra le parole di Guttuso e questo scoperto indicare Guernica di Morlotti un'opera che comunque valeva come manifesto antifascista allora determinò anche fu tra gli elementi principali che determinò la chiusura forzata della rivista di Forlì con questo numero del maggio giugno del 43 oltretutto era una lunga pagina molto ricca era dedicata a Medeo Modigliani e dai documenti che sono rimasti nell'archivio Walter Ronchi pare proprio che questa pagina su Modigliani fosse al pari di queste radicali posizioni di De Michele e Guttuso un elemento diciamo così particolarmente sgradito però è interessante e qui facciamo ponte tra le immagini dei disegni di nudi femminili riprodotti nel 43 su Pattuglia e questo che è uno dei grandi dipinti di Morlotti è interessante dal punto di vista appunto dello storico dell'arte anche misurare gli elementi di continuità linguistica e anche di discussione si parla nelle riviste di Goof negli anni di guerra di ritorno alla realtà e uno dei temi che informa invade il dibattito nell'immediato dopo guerra è proprio questo come intendere il ritorno alla realtà come intendere la lezione di Guernica come superarla e il caso di Morlotti mi sembra che sia piuttosto eloquente in questo ponte un esempio al quale si è fatto riferimento che scorro molto rapidamente del fatto che le riviste gufine soprattutto quelle di carattere culturale hanno dei rapporti si basano su reti di rapporti estremamente complessi intrecciati è il caso di Architrave pubblicata a Bologna e come già si diceva Francesco Arcangeli per Paolo Pasolini scrivono appunto su Architrave un esempio a pagina 9 nel fascicolo dell'aprile 42 esce appunto un testo di Pasolini microcosmo e quattro pagine prima sulla stessa pagina sta uno scritto di Giovanni Testori dedicato all'antico e non al contemporaneo in questo caso uno scritto di Francesco Arcangeli dedicato a una recensione di una mostra di una galleria bolognese e ancora uno scritto di Mandelli dedicato a Minorosi e Minorosi di cui viene riprodotta nella stessa pagina viene riprodotto un disegno una carta disegnata e Minorosi guarda caso è proprio uno degli animatori negli anni di guerra della rivista pisana del Campano su cui più o meno alle stesse date negli stessi mesi vengono pubblicati articoli e immagini di particolare interesse come ad esempio questo disegno ritratto di Cassola di Fazzini o recensioni come questa di Minorosi dedicata alla biennale alla ventitresima l'ultima biennale di guerra nello stesso fascicolo stanno alcune poesie di Pasolini e ancora a chiudere il cerchio una volta per tutte nello stesso fascicolo a distanza di poche pagine una prosa e un disegno di Giovanni Testori ora volendo chiudere brevemente questo mio discorso recuperando il tema del database vorrei semplicemente darvi alcune indicazioni il database dalla struttura estremamente complessa è grazie anche all'aggiornamento degli strumenti della tecnologia si è estremamente semplificato resta comunque questa impostazione che forse l'immagine non vi consente di leggere chiaramente comunque di una schedatura dedicata al fascicolo inteso come unità di misura di base essenziale e una schedatura di secondo livello dedicata invece ad articoli e soprattutto alla schedatura di persone eventi e con eventi si intendono mostre conferenze convegne che fanno riferimento appunto a quanto si scrive sulle riviste dei Guff e a opere anche prima di dare uno sguardo di chiudere quindi al database che nella forma sua conclusiva mi preme sottolineare come già comunque il gruppo di ricerca fondamentalmente sia un gruppo minimamente multidisciplinare visto che la stretta collaborazione con la parte informatica ha costituito un elemento essenziale così come il contributo di Gian Donato Tartarelli fotografo della scuola è stato essenziale per impostare e svolgire e coordinare appunto le campagne fotografiche che si stanno tuttora tenendo mi preme anche sottolineare come questo lavoro poggi si giovi della partecipazione di molti studenti dell'Università di Pisa del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dove appunto sono dove insegno che stanno svolgendo tesi o approfondimenti combinandole anche con tirocini formativi all'interno del Laboratorio di Documentazione Storico-Artistica credo che appunto questo tenere aperto anche il ventaglio e sollecitare i più giovani a confrontarsi con temi di critica che escono fuori da queste riviste possa essere estremamente interessante e ovviamente anche la campagna fotografica da un cavalletto un treppiedi con cui iniziai diversi anni fa si è notevolmente perfezionata con strumenti di cui si è appunto dotato nel corso degli anni il Laboratorio di Documentazione Storico-Artistica la pubblicazione di Emporium di riviste d'avanguardia nel progetto Capti la futura pubblicazione di Dedalo anche che è digitalizzato proprio in questo periodo sono diciamo anelli di una catena molto lunga che appartiene appunto all'identità al DNA di questo di questo laboratorio e vorrei ora brevemente farvi vedere solo per darvi la misura un po' del lavoro che si sta svolgendo questa che è la versione della banca dati che è ancora diciamo così è pronta la campagna fotografica di schedatura è completata non è oggi disponibile online alla consultazione al pubblico perché si stanno ultimando le fasi di validazione sia da un punto di vista della schedatura ma soprattutto della consultazione da parte degli utenti esterni però vorrei farvi vedere quello che è uno dei dati poi più importanti che è costituito e quello che deve essere in qualche modo anche la molla il trampolino un po' per rilanciare il discorso che è quello della digitalizzazione dei fascicoli di tutti i fascicoli non ovviamente soltanto delle pagine dedicate all'arte all'interno di la schedatura di questi primi fascicoli è molto magra perché rari sono i contributi dedicati appunto a temi artistici però all'interno del database è possibile raggiungere delle maschere di consultazione del database e delle singole pagine e in queste maschere è possibile anche leggere ad alta risoluzione testi immagini con la possibilità quindi anche di usare questi materiali così come è accaduto per Emporium sta accadendo ormai mi sembra che lo strumento sia ampiamente a conoscenza di tutti quanti sta accadendo sta accadendo appunto per Emporium c'è la possibilità di usare anche questi materiali questo ad esempio è un articolo su Guttuso estremamente interessante e c'è la possibilità di leggere anche le immagini riprodotte con una risoluzione diciamo di di alta di alta qualità che rende insomma questi strumenti decisamente decisamente utili io sono in fase di schedatura in parallelo anche altre riviste quelle di Forlì appunto il Barco di Genova di cui si parlerà Rivoluzione di Firenze Posizione di Novara e Architrave di Bologna a proposito delle quali appunto ci saranno due interventi nella seconda parte della giornata invitando poi a una valutazione anche diciamo più diversa anche delle prospettive di ricerca vi ringrazio vi ringrazio e termino qui lasciando lasciando la parola chiamando appunto Luca Larovere che è ricercatore di storia contemporanea dell'università di Perugia che appunto si è occupato a più riprese della vita della storia dei guf tra l'altro pubblicando appunto nel 2003 questa storia dei guf che costituisce un testo fondamentale per la conoscenza appunto di questa esperienza lascio la parola a Luca e la ringrazio grazie allora ecco si tratta di ricerche che risalgono ormai a molti anni fa le mie e che ho ripreso cercando di svolgere una sorta di ricognizione su quello che è stato fatto successivamente e quindi tentando di tenere presente anche il tema della cultura dell'arte così come viene trattata sulle pagine dei guf per valutare che ruolo che tipo di attenzione ci sia stata da parte della storiografia per questo aspetto intanto inizierei sottolineando come questo tema della gioventù universitaria negli anni del fascismo continui ad interessare e ad impegnare l'attività di ricerca di nuove e vecchie generazioni di studiosi nell'ultimo quindicennio grossomodo sono stati infatti come diremo condotti e pubblicati numerosi studi sono state assegnate tesi di laurea e di dottorato alcune delle quali attendono di essere pubblicate su questo tema direi che questo persistente interesse per l'argomento si inserisce in un più ampio filone di studi di storia dei giovani che negli anni negli anni più recenti si è arricchito di numerosi contributi che spaziano dal periodo liberale al fascismo appunto all'Italia repubblicana il cui filo conduttore se volessimo individuarne uno è costituito proprio dalla fascinazione dell'elite giovanili dell'elite intellettuali giovanili quindi voglio dire una minoranza della popolazione giovanile italiana per il mito della rivoluzione che viene ovviamente condotta all'insegna di valori e ideologie che sono di volta in volta differenti ma che è costantemente capace di mobilitare diverse generazioni di italiani dai giovani diciamo che si formano nell'età post risorgimentale che costituiranno il nerbo dell'interventismo all'ultima grande ondata giovanile che è quella del 68 e quindi anche gli studi su quel periodo e sulla partecipazione giovanile alla violenza politica e la lotta armata negli anni 70 è un filone molto proficuo e che si sta sviluppando negli ultimi anni un altro elemento che ha contribuito e contribuisce a a far sì che ci siano nuovi studi sul tema della gioventù universitaria del ventennio è costituito dall'evidenza che la generazione formata per alimentare i quadri della classe dirigente fascista ricoprì ruoli di primo piano come è già stato ricordato nella vita politica e culturale dell'Italia del dopoguerra e quindi per quanto il fuoco della storiografia contemporaneistica italiana si sia spostato prevalentemente progressivamente sul periodo dell'Italia repubblicana il nodo della formazione delle classi dirigenti o meglio della continuità delle classi dirigenti e intendo ovviamente classi politiche intellettuali resta nella transizione nella discontinuità tra regime fascista e Italia repubblicana resta ad essere continua ad essere centrale a queste due motivazioni di natura prettamente culturale di organizzazione degli studi si aggiunge anche un altro elemento niente affatto secondario ossia il rinvenimento la catalogazione la messa a disposizione degli studiosi di nuove fonti documentarie come si è detto l'esempio appunto dell'archivio di Walter Ronchi è appunto uno dei più recenti e appunto questi nuovi materiali a disposizione degli studiosi contribuiscono a stimolare nuove indagini sul tema nel complesso possiamo dire che una nuova stagione di ricerche sugli universitari fascisti si è aperta intorno agli anni 2000 è stato già ricordato che precedentemente esistevano degli studi anche importanti interessanti sull'argomento ma erano studi parziali limitati ad alcune realtà locali e ad alcune fasi della esperienza dei giovani negli anni del fascismo quelli la fase aurorale e qui ovviamente il riferimento obbligato agli studi di Paolo Nello ma anche a quelli di Maria Cristina Giuntella più in generale la stampa dei giovani aveva già attirato l'attenzione proprio per la sua vivacità degli studiosi negli anni negli anni settanta e quindi abbiamo i contributi di Addis Abba sulla stampa giovanile nella guerra fascista che è del settantatré seguito da quello di Luisa Mangoni dell'anno successivo che inseriva appunto i giovani delle università tra i suoi interventisti della cultura e poi quello di Alberto Follino e Mario Quaranta sulle riviste giovanili del periodo fascista che seppure non era centrato specificamente sulle riviste universitarie però diciamo aveva numerosi una parte rilevante dedicata appunto a questo tema diciamo pure che non mancava nemmeno una critica al paradigma zangrandiano che è quello con il quale si era letto fino appunto per lungo periodo si era letta l'esperienza dei giovani durante il fascismo appunto che Giovanni Belardelli inseriva appunto il lungo viaggio il tema del lungo viaggio attraverso il fascismo in una sorta di catalogo dei miti dell'Italia unita che veniva pubblicato dal Mulino nel 1999 rispetto agli antecedenti tuttavia le nuove ricerche si sono giovate a mio parere di una congiuntura culturale favorevole infatti questi studi si collocavano al crocevia del compimento di una riflessione sulla crisi del paradigma antifascista come strumento ritenuto ormai insufficiente per leggere in sede storiografica il fascismo che era stata una crisi annunciata in splendida solitudine da Renzo De Felice ma che era stata fatta propria ormai anche dalla più avvertita storiografia antifascista per esempio con il saggio di Nicola Gallerano pubblicato su problemi del socialismo nel 1986 che si intitolava appunto crisi e critica del paradigma antifascista su questa riflessione si innescava quella più recente sulla natura totalitaria del fascismo italiano sia pure come esperimento teso a ricercare una originale via italiana al totalitarismo e il volume omonimo di Gentile nella sua prima edizione appare appunto nel 1995 quindi direi che in questo quadro in questo quadro rinnovato lo studio delle politiche giovanili del fascismo appariva prima ancora che un pezzo di storia delle generazioni italiane uno strumento per comprendere le modalità attraverso le quali il partito e il regime fascista avevano tentato di attuare il proprio progetto totalitario e i risultati di una similazione alcune delle questioni metodologiche poste da questa nuova vague da questa nuova ondata di ricerche possono essere riassunte come segue in primo luogo la necessità di ricostruire la storia dell'organizzazione nel suo complesso per intendere appunto nella sua dinamica evolutiva il tentativo del partito di creare un'agenzia educativa adatta allo scopo per la quale era stata creata vale a dire la creazione dell'uomo nuovo fascista e in particolare della nuova classe dirigente fascista un'azione ovviamente che non riguarda solo gli universitari ma la gioventù italiana nel suo complesso in questo senso fare la storia dell'organizzazione non significava semplicemente comporre una storia istituzionale in quanto tale ma aveva esattamente il valore di verificare attraverso dati quantitativi e qualitativi come si svolgesse il processo di socializzazione delle nuove leve durante il fascismo attraverso appunto fatti restituiti dalla documentazione archivistica e non interpretati esclusivamente attraverso le dichiarazioni di intenti o i proclami propagandistici del regime in secondo luogo era necessario ritornare sul dibattito degli universitari fascisti che era stato appunto come ricordava anche Mattia non un dibattito separato ma immerso nel contesto del dibattito politico-culturale del tempo e questo diciamo questa operazione di ritorno ai testi costituiva l'unica strada per valutare effettivamente se l'obiettivo del partito di creare nuove generazioni di fascisti avesse trovato o meno una corrispondenza nella realtà vale a dire che soltanto attraverso un raffronto costante con la pedagogia del regime con i miti e motivi propagandistici veicolati dall'organizzazione e appunto con il dibattito culturale del tempo si sarebbe potuto sgombrare il campo da letture distorte interessate retrospettive i protagonisti di quella stagione avevano costruito diciamo avevano esercitato un'egemonia sulla memoria di quella esperienza e quindi fare piazza pulita di miti quali il frondismo il fascismo di sinistra l'antifascismo in camicia nera addirittura o la fascismo tutte formule con le quali si tendeva a interpretare e a ricostruire l'esperienza dei giovani negli anni 30 e 40 e appunto sulla stretta connessione esistente tra organizzazione e cultura politica tra creazione di un apparato teso non soltanto alla mobilitazione ma io direi proprio alla formazione della personalità politica ma anche della coscienza privata individuale dei giovani insisteo nel mio volume appunto che è stato ricordato che è del 2003 quindi direi che l'obiettivo di quella operazione non era tanto quello di rovesciare l'immagine del lungo viaggio nel suo contrario ma piuttosto quello di verificare appunto se e in che misura la pedagogia fascista che si esercita attraverso un apparato che come ho dimostrato assorbe oltre il 50% delle risorse finanziarie dedicate al partito alle sue organizzazioni pur essendo gli universitari fascisti una ristretta minoranza degli iscritti al partito ecco se questo vasto sforzo organizzativo e pedagogico culturale avesse effettivamente prodotto un mutamento nella cultura nella mentalità e nei valori di questa generazione su questa scia quindi si sono mossi altri studiosi un esempio ovviamente la mia illustrazione procederà per esempio non ha pretesa di essere completa ma soltanto di illustrare alcune linee di tendenza ecco Simona Salustri sembra nel suo volume dedicato agli universitari bolognesi tra le due guerre si muoveva sulla stessa Sashia pur esaminando un caso locale e appunto attraverso la documentazione d'archivio consultata presso l'Ateneo bolognese venivano messi in luce aspetti interessanti del meccanismo di funzionamento del sistema di potere fascista a livello locale quindi dell'interazione tra le autorità periferiche del regime l'accademia e i gruppi universitari ma anche per illuminare aspetti appunto della sfera ideologica dei gufini grazie a questi materiali per esempio emerge in maniera netta lo zelo con il quale gli universitari bolognesi si adoperavano per attuare una integrale intransigente esclusione degli studenti ebrei dal tessuto associazionistico locale dalla vita politica e pubblica del capoluogo ma anche per realizzare l'epurazione dei testi dei docenti ebrei un'operazione che era resa possibile dal monopolio che i guf avevano conquistato negli anni sulla pubblicazione delle dispense dei testi universitari quindi vediamo come ancora una volta l'organizzazione la macchina organizzativa come diciamo supporta poi l'ideologia quindi non sono due dimensioni separati centrato prevalentemente sulla dimensione ideologico culturale è poi lo studio di Simone Duranti del 2007 lo spirito gregario questo è il titolo del volume costituisce in effetti il primo lavoro condotto sistematicamente sulla stampa universitaria dal 1930 allo scoppio della seconda guerra mondiale costituisce appunto un contributo importante per individuare temi orientamenti tendenze all'interno del dibattito giovanile nonché profili di singole personalità all'interno del movimento universitario parallelamente emerge in maniera piuttosto netta la funzione dei goof nel sostenere e amplificare direi l'opera di penetrazione ideologica del fascismo non solo nella nella gioventù ma nella società italiana del tempo quindi è uno strumento importante per implementare l'azione di fascistizzazione della della società italiana e ovviamente per fare piazza pulita una volta per tutte del mito variamente declinato dell'antifascismo giovanile alcuni temi sono individuati appunto come centrali per verificare il coinvolgimento e l'integralismo ideologico dei gufini per esempio la questione del razzismo e dell'antisemitismo rappresenta chiaramente una cartina di tornasole del carattere allineato per così dire intransigente del fascismo giovanile cioè della entusiastica e volenterosa partecipazione degli universitari a tutte le campagne politiche del regime altri contributi recenti che riguardano la stampa sono per esempio quello di Francesca Inviscuso dedicato specificamente a Roma fascista su un versante diverso più teso a scavare in profondità all'interno di singoli percorsi di vita politici ed esistenziali di giovani negli anni del fascismo si collocano quelle opere che appunto come dicevo prima si basano sulla recente disponibilità di archivi privati tra queste si collocano ad esempio le due opere di Aldo Grandi e di Thomas Carini dedicati a Nicolò Gianni e al gruppo di giovani che ruotò intorno alla scuola di mistica fascista gli eroi di Mussolini di Grandi del 2004 quello di Carini Nicolò Gianni e alla scuola di mistica fascista è del 2009 in questo caso tuttavia un'eccessiva insistenza sul carattere fideistico e missionario dell'integralismo mistico che caratterizzò alcuni esponenti del fascismo giovanile che sono tratteggiati nel volume i nomi che ricorrono oltre a quelli di Gianni sono quello di Guido Pallotta Berto Ricci Garrone ed altri hanno l'effetto di perpetuare l'immagine di quei giovani come una ristrettissima minoranza di esaltati di fanatici che di fronte alle prove del fallimento del regime cerca la morte sui campi di battaglia come estrema via individuata per sottrarsi al disincanto e alla disillusione anticipando un po' quel mito della bella morte che sarà poi proprio della Repubblica Sociale Italiana e un simile risultato a questo risultato si arriva proprio sganciando la riflessione dei mistici diciamo così dal contesto della più ampia cultura giovanile e dalle coordinate etiche che invece erano quelle proprie di una generazione ma anche appunto dall'azione di pedagogia politica esercitata dal partito che andava proprio nella direzione di creare un integralismo un atteggiamento integralistico tra i giovani il fascismo come ci ha insegnato Emilio Gentile ancora si presentava come una religione politica e quindi la formazione di nuove classi dirigenti non era come dire orientata secondo delle coordinate liberali ma appunto era tesa a creare dei mistici dei fedeli del culto della religione fascista ecco nel complesso questi studi pur con i limiti metodologici e interpretativi che ho ricordato concorrono all'accantonamento del paradigma del lungo viaggio anche se direi che peccano per un eccesso di reazione è stato già citato il volume curato da Giovanni Tassani una generazione in fermento arte vita fino ai ventennio pubblicato da Palombi nel 2010 che appunto si concentra sulle riviste si basa sul fondo Walter Onchi e si concentra sulle riviste del gufo di Forli via consolare spettacolo e pattuglia e anche qui appunto diciamo soprattutto nel saggio introduttivo di Tassani vengono ricostruiti i profili dei protagonisti di quell'esperienza molti dei quali sono destinati a continuare la loro attività anche successivamente spiccano i nomi di Diego Fabri Turi Vasile Paolo Grassi Guido Aristarco Giovanni Testori Italo Calvino del quale è stato ritrovato addirittura un inedito Giorgio Napolitano ed altri e poi ancora la rete di relazione che questi giovani riescono a costruire a livello nazionale l'ambizione è quella di continuare un dibattito nazionale sulla cultura fascista nel momento in cui i litoriali vengono sospesi per l'entrata in guerra del paese e i contatti quindi con gruppi di intellettuali di Roma di Napoli di Milano come è stato ricordato ma anche con la scuola di mistica fascista per esempio o con giovani inseriti nell'apparato amministrativo del regime e anche dal saggio di Tassani emerge la persistente capacità del regime negli anni della guerra di coinvolgere nelle proprie iniziative politico-culturali anche se con larghi margini di autonomia giovani che cominciano comunque a maturare orientamenti diversi Tassani parla di un atteggiamento un orientamento mazziniano per Ronchi Ravaglioli è un cattolico che però tuttavia è inserito nell'orizzonte culturale e politico del regime fa riferimento anche al caso di Vittorio Farosini allievo di Calogero a Pisa e quindi in contatto con l'ambiente liberale socialista e ancora al comunista in pectore Antonio Ghirelli i quali tuttavia a lungo ben dentro diciamo così gli anni della guerra continuano a vedere nel fascismo come scrive Tassani un esperimento di riorganizzazione moderna della società ora alla prova della guerra rivoluzionaria e questo mito della guerra rivoluzionaria è esattamente ciò che ritarda il distacco dei giovani dal fascismo e quindi soltanto successivamente con lo scioglimento delle redazioni di queste riviste negli anni della guerra uno scioglimento che appunto come ricordato colpisce pattuglia ma anche il campano a Pisa eccoci di Cremona posizione di Novara comincia quel faticoso processo di fuoriuscita dall'orizzonte ideologico del fascismo ovviamente la guerra e la partecipazione alla guerra combattuta sono interessanti nel volume le lettere di Ravaglioli a Ronchi Ravaglioli sul fronte greco-albanese e dalle quali emerge appunto immaturare di un atteggiamento ormai chiaramente critico nei confronti del regime quindi ecco diciamo che quello che emerge complessivamente da questa sommaria ricognizione della storiografia può essere riassunto in tre punti quindi accantonamento del paradigma zangrandiano del lungo viaggio e quindi insistenza sulla persistente capacità di fascinazione dei miti fascisti ancora negli anni della guerra la presa d'atto dello sforzo organizzativo attuato dal partito per formare la gioventù e che assume la forma sia del controllo e della repressione delle forme di devianza ma anche e soprattutto quella della incentivazione del dibattito giovanile della promozione di una parte consistente di questi giovani intellettuali al ruolo di intellettuali funzionari proprio per consentire loro di continuare ad esercitare la funzione di intellettuali militanti utilizzando la celebre definizione di snenghi quindi attraverso una politica di cooptazione nelle strutture politico-culturali del partito e del regime e poi direi come ultimo e forse per noi più importante punto è il riconoscimento dell'autentica tensione di questi giovani a creare una cultura e quindi anche un'arte autenticamente fasciste proprio come risultato dell'interiorizzazione del mito della civiltà nuova tuttavia se abbandoniamo il campo della storia più propriamente politica culturale volgiamo invece lo sguardo alla produzione che più direttamente si è occupata della dimensione artistica dei goof notiamo l'emergere di tendenze contrastanti e divergenti rispetto a quelle delineate precedentemente ricordo che in questo ambito tradizionalmente allo stereotipo del lungo viaggio attraverso il fascismo si è sommato quel vero e proprio pregiudizio secondo il quale il fascismo non avrebbe avuto una propria cultura secondo appunto una versione largamente diffusa e dominante almeno fino alla fine degli anni settanta a fronte della sostanziale inconsistenza della cultura fascista o nel migliore dei casi del suo provincialismo della sua chiusura autarchica alle correnti culturali internazionali i giovani avrebbero trovato nella cultura e proprio nel contatto con la cultura internazionale del tempo uno strumento di emancipazione e di acquisizione di una coscienza critica va da sé che se il fascismo viene considerato come anticultura la cultura è di per sé uno strumento di opposizione al fascismo e quindi la visione di film che nelle a memoria venivano considerati proibiti come quelli di René Clare ma che invece costituivano diciamo un'attività di routine nel goof o altre esperienze assimilabili è stata considerata appunto un viatico verso la fronda prima e l'antifascismo poi però rispetto a questa impostazione ormai datata bisogna dire che sono stati fatti notevoli progressi almeno appunto a partire dalla fine degli anni 70 con gli studi di Gentile Isneghi Zunino proseguiti poi con quelli di Gabriele Turi Angelo Dorzi fino ai contributi più recenti di Ruth Benghiat e Alessandra Tarquini che hanno presentato scusate un'immagine della cultura fascista completamente diversa mettendo in evidenza il nesso esistente tra politica culturale rivolta sia agli intellettuali che alle masse e modernizzazione del paese da un lato e dall'altro il contributo degli intellettuali degli artisti alla produzione dell'universo culturale e ideologico e simbolico del regime fascista indubbiamente anche tra gli storici del cinema del teatro dell'architettura dell'arte la considerazione del ruolo mobilitante e modernizzante della cultura fascista è un dato ormai acquisito citerei soltanto per fare un esempio lo studio di Monica Cioli il fascismo e la sua arte del 2011 piuttosto recente nel quale si intrecciano si esplorano gli intrecci tra linguaggio politico e linguaggio artistico e linguaggio della cultura tuttavia simili acquisizioni stentano ancora ad essere prese in considerazione tra coloro che si occupano più specificamente dei goof per quanto riguarda il cinema qualche progresso è stato compiuto rispetto allo stereotipo del lungo viaggio attraverso i cine goof come si intitolava il titolo di un intervento memorialistico di Carlo Lizzani del 1984 riproposto ancora nel 98 io stesso ho fatto alcune incursioni in questo territorio con un paio di saggi e poi ci sono appunto interventi più recenti come quello di Silvio Celli contenuto nel volume di Faccioli Schermi di regime cinema italiano negli anni 30 del 2010 che hanno messo in evidenza il fatto che i cine goof lungi dall'essere rimasti delle isole felici nelle quali coltivare la passione per il cinema al riparo delle pressioni ideologiche del regime furono in realtà delle strutture inserite nel progetto di formazione degli intellettuali e di appunto come dicevo prima implementazione e diffusione della pedagogia fascista rivolta a più ampie masse di italiani segnalo anche una ricerca di dottorale di Andrea Mariani svolta presso l'università di Udine che si muove ovviamente sulla stessa scia della quale è stata pubblicata al momento solo una breve sintesi ma che ha il pregio tra le altre cose di aver ricostruito un database completo o comunque che tende e aspira ad essere il più completo possibile delle opere prodotte dal cine goof e di aver anche cominciato a raccogliere un buon numero di film e avviato anche un processo di digitalizzazione per cui è anche un punto di riferimento credo per gli studiosi i giovani studiosi che si stanno occupando di questo tema e si potrebbe anche pensare a forme di collegamento tra queste attività che vanno ovviamente nella stessa direzione in altri casi direi che sembra di assistere ad una vera e propria reviscenza del paradigma vado tranquillamente un po' oltre eh allora devo tagliare parecchio comunque quello che mi preme sottolineare è che in questo ambito dell'arte appunto eh le acquisizioni eh della nuova storiografia sembrano stentare ad affermarsi eh addirittura c'è una rivalutazione delle letture alla Zangrandi eh faccio soltanto un esempio del volume di Cristina Palma eh le riviste del Guf e l'arte contemporanea perché è anche più congruente diciamo con il tema della giornata che è del del 2010 eh è decisamente più un'opera di catalogazione per quanto appunto utile meritoria che di sistemazione critica dei materiali eh raccolti ma che sconta evidenti limiti di conoscenza della letteratura e anche di impostazione metodologica e finisce così per riprodurre alcuni dei luoghi comuni sui Guf già eh da tempo eh sfatati per cui appunto viene riproposta l'idea che la eh l'arte e la cultura sarebbero state una forma di evasione dalla realtà del regime eh e attraverso l'adozione di tematiche e di codici espressivi non conformi con la retorica e con i toni roboanti della cultura ufficiale avrebbe espresso addirittura cito testualmente un modo di protestare consapevolmente o meno e di reagire a quello che non si voleva eh accettare eh in questo quadro ovviamente trova credito l'idea dei litoriali come eh palestra di antifascismo e la conclusione che lo stesso dibattito sulla mancata realizzazione di un'arte fascista eh tra i gufini eh stava a indicare il fallimento della politica giovanile del regime piuttosto che come io invece sono propenso a ritenere l'ossessione integralistica dei gufini che gli spingeva a reclamare una piena attuazione eh della funzione militante dell'arte nella quale credevano ecco l'incomprensione direi dei del dibattito del significato del dibattito culturale dei giovani universitari direi che appare in tutta evidenza anche nella prefazione a questo volume che è di Enrico Crispolti il quale appunto ritiene che le proteste dei giovani contro l'arte contro un'arte soltanto di propaganda fosse l'affermazione di una necessaria intima autonomia dell'arte per concludere quindi che la continuità delle esperienze culturali compiute da quei giovani nel dopoguerra e la metapoliticità dei loro interessi culturali costituisce la prova del carattere imperfetto del totalitarismo fascista altri esempi si potrebbero fare di questo orientamento che appunto emerge in particolare in alcuni studi che si sono occupati dell'attività del teatro guf tra gli altri menzionerei quello di Carlo di Leonardo il ventennio dei ventenni del 2014 il quale appunto recupera anche una metodologia che apparirà separata cioè quella che tende a rivalutare le testimonianze dei protagonisti e addirittura dello stesso Zangrandi che viene utilizzato largamente nel volume come una fonte attendibile dell'orientamento dei giovani durante il fascismo e poi ecco riproduce anche un limite già riscontrabile nella in passato negli studi su questo sul tema dei giovani che è quello di concentrarsi su una elita di giovani intellettuali appunto Pierpaolo Pasolini Giorgio Streller Paolo Grassi Giovanni Testori e con la tendenza a leggere l'esperienza degli anni 30 e 40 alla luce dell'evoluzione successiva insomma ci sono delle citazioni particolarmente significative che dimostrano appunto come venga utilizzato questo sguardo retrospettivo che è decisamente fuorviante nel complesso possiamo parlare con riferimento a questi studi quindi di un ritorno a Zangrandi indubbiamente la nuova storiografia che ha affrontato il tema dei gufa visto in questo schema narrativo del lungo viaggio un fattore che ha contribuito fortemente a distorcere la ricostruzione e l'interpretazione dell'esperienza dei giovani nel fascismo e forse potremmo anche dire facendo anche un po' di autocritica a posteriori ha ecceduto nell'individuare in quella retorica del lungo viaggio il proprio bersaglio polemico occorre considerare che quella versione che peraltro a Zangrandi si limitò a codificare a sistematizzare e a divulgare era largamente diffusa nelle testimonianze e nel dibattito sui giovani il fascismo che si svolse nel periodo immediatamente successivo al crollo del fascismo e negli anni dell'immediato dopoguerra e che aveva e diciamo che quella retorica e quella ricostruzione di un'esperienza che si voleva generazionale nacquero proprio per rimediare alla crisi storica di una generazione che appunto con il crollo del fascismo aveva visto aveva perso ogni punto di riferimento ideale ed esistenziale ecco io direi invece che il riferimento a Zangrandi o altre testimonianze che vengono utilizzate da questi giovani studiosi evidenzino non soltanto dei limiti metodologici ma rinvinono a una questione più generale che è quella della persistente difficoltà ad accettare e quindi a fare propria la riflessione sulla natura totalitaria del fascismo italiano e quindi il fascismo in qualche misura continua ad essere considerato imperfetto riluttante o addirittura fallimentare quindi direi che fin tanto che la cultura fascista verrà considerata come un'ambizione irrealizzata come pura propaganda fin tanto che la ricostruzione tra giovani e regime continuerà a prescindere dall'esame delle strutture predisposte per formare i nuovi italiani che è un limite che si riscontra in tutti questi lavori più centrati sull'arte è chiaro appunto che la cultura giovanile continuerà ad essere descritta come un'esperienza che si definisce e si ricostruisce soltanto come sommatoria di traiettorie individuali e quindi da una parte avremo il fascismo misticheggiante di Gianni e gli altri e dall'altra l'antifascismo di Zangrandi lizzani o addirittura l'antifascismo della maggioranza come pure viene sostenuto senza in realtà comprendere nulla degli orientamenti culturali complessivi di quella generazione il tentativo che io ho fatto quando parlavo appunto di una cultura gufina come complesso organico che avesse dei tratti comuni e caratterizzanti e quindi si continuerà ad utilizzare diciamo quel sistema di citare un singolo scritto di un singolo autore per dimostrare un più complessivo e generalizzato fallimento della pedagogia fascista sì è chiaro che appaiono appare quello scritto di Guttuso sulla pittura ma intanto occorre considerare che siamo nel 43 maggio 43 quindi insomma nell'imminenza del crollo del regime e occorrerebbe poi valutare se quello scritto è espressione di più larghi orientamenti in ogni caso non si può retrodatare quell'atteggiamento che può effettivamente essere giunto a maturazione in quella fase agli anni precedenti quindi quantomeno esaminando l'azione culturale di critica di produzione artistica dei giovani si dovrebbe tener conto di uno svolgimento che si ha nell'arco di almeno un decennio io direi che coinvolge più generazioni successive di giovani ecco io direi che nel complesso concluderei con alcune osservazioni sottolineando che il lavoro di scavo nelle manifestazioni diverse della cultura gufina è ancora agli inizi ma potremmo fin d'ora stabilire qualche punto fermo che emerge dall'incrocio tra la storiografia sui guf e quella sulla cultura fascista in genere intanto che appunto il regime riuscì a produrre un mutamento del quadro complessivo dei valori e dell'identità dei giovani e questo mutamento influenzò la maniera nella quale parlavano di cultura di arte di letteratura di cinema di architettura e via discorrendo che di fronte allo scontro tra opinioni e tendenze all'interno del regime per definire quale dovesse essere la cultura del tempo nuovo i giovani rappresentavano e si auto rappresentavano come più autentici interpreti della cultura e dell'arte fascista e quindi anche in qualche misura le intenzioni al di là delle realizzazioni vanno anche tenute in debita considerazione quando parlavano di questa nuova cultura i giovani intendevano che dovesse riflettere la natura totalitaria del regime e quindi essere come come il regime basata sul primato della politica che è la caratteristica diciamo del del totalitarismo fascista e quindi la politica come fonte di ispirazione di ogni attività sociale ma anche individuale ultimo punto che malgrado l'assenza di un'arte di stato che il fascismo rinuncia diciamo a definire dei canoni estetici ufficiali senza che per questo si possa parlare di pluralismo ovviamente nel dibattito critico e nella sperimentazione nei vari campi del cinema del teatro della letteratura eccetera i giovani tentavano effettivamente di dare vita a un'arte nuova che doveva essere nelle intenzioni antiborghese realista e sociale quindi un'arte collettiva per il tempo nuovo un'arte per le masse che vedesse soprattutto la funzione social politica dell'artista quindi credettero direi nella possibilità di creare un'arte che esprimesse i valori della nuova civiltà fascista e li veicolasse tra le masse concluderei dicendo che illustrare quali risultati i giovani del lettorio raggiunsero nel campo della produzione artistica sarà appunto il compito del progetto di ricerca che è già in parte avviato ma che mi auguro proseguirà nel futuro grazie per l'attenzione grazie a Luca la rovere non ho detto all'inizio non è previsto da programma fra un intervento e l'altro uno spazio per domande risposte forse se riusciamo a ritagliarlo alla fine della sessione o alla fine della giornata insomma comunque non vedo l'ora va bene inizio a parlare bene allora ringrazio Luca ancora e chiamo Simone Duranti che è assennista di ricerca all'università di Siena storico storico anche egli e autore appunto di uno studio lo spirito gregario incentrato proprio sui guffi oltre che di altri studi sui regimi totalitari lascio la parola molte grazie per l'invito e per indubbiamente l'occasione di confrontarsi su temi che come diceva giustamente Luca hanno vissuto in questi anni effettivamente un discreto ritorno se non comunque un momento evidente di maggior focalizzazione almeno tematica e riportando al centro effettivamente questioni di merito tutto all'interno del percorso di singole riviste ma anche effettivamente al fondo quello che è il dibattito sul totalitarismo e quindi in precedenza tutta la questione legata al consenso e come questo si è manifestato io effettivamente mi ricordo di essere partito nei miei lavori sul Guff con un forte senso di impressione determinato da quella rilevazione precisa che la rovere fece appunto arrivando a dimostrare molto chiaramente che lo sforzo che il partito riuscì a mettere in piedi nella seconda metà degli anni 30 era talmente concentrato sul Guff da arrivare a destinare un quantitativo del bilancio del partito veramente sorprendente questo probabilmente avrebbe dovuto determinare una ricaduta anche in termini di qualità del messaggio che si credeva i Guff avrebbero potuto destinare in varie forme a dibattiti alla popolazione italiana o comunque alla spiegazione del fascismo in varie forme e in temi e momenti differenti un'altra considerazione che viene chiaramente fuori dal lavoro di La Rovere che è fondamentale per inquadrare per informare di senso buona parte della discussione che mi auguro si possa fare anche all'interno degli steccati dei paletti degli specialismi inevitabili fra discipline è la questione che fuori dal Guff non c'è nulla per un studente universitario che ha dell'età ambizioni interessi culturali politici artistici eccetera dall'impegno sportivo voglio dire fino al cercare di mettere in piedi una sceneggiatura per un'opera teatrale o qualunque altra manifestazione appunto artistica politica o culturale pensiamo al giornalismo stesso fuori dal Guff non c'è nulla questo significa che anche la misurazione delle ortodossie delle eterodossie eccetera vanno in parte considerate all'interno di questo scenario e quindi giustamente è stato rilevato proprio in quest'ultima in quest'ultima nelle considerazioni conclusive di Luca è molto diverso un antifascismo un fascismo critico comunque che solleva determinati aspetti eterodossi nel 42 piuttosto che nel 34 è evidente è evidente il livello di compromissione di tutta una serie di personalità del mondo culturale che hanno strumenti per poter portare avanti i propri interessi questo con un gioco di relazioni interessanti che vede da una parte il partito come attore principale ma anche l'università come istituzione culturale che fascista o fascistizzata comunque mantiene come sappiamo all'interno di determinati specialismi tentativi di autonomia che non significa necessariamente che l'autonomia porti all'antifascismo porti a visioni eterodosse ma semplicemente la chiusura in determinati ambiti specialistici può portare effettivamente a minori compromissioni nel momento in cui poi nel lungo dopoguerra uno dei giochi principali che si è fatto in questo paese ad andare a cercare gli antifascisti in camicia nera e quindi andare a ricercare linguaggi strategie tentativi di comunicazione che hanno avuto ovviamente sorti differenti tra i tanti esempi che chiaramente una giornata come quella di oggi forse può avere dopo un'introduzione molto importante che avete sentito adesso sul panorama è anche molto difficile tratteggiare è stato fatto molto bene il tratteggiamento di quello che è il percorso storiografico di queste questioni è il momento in cui io ho pensato a cosa potervi portare fra i temi possibili fra alcuni degli aspetti utilizzabili per arricchire il quadro io ho pensato a proporvi qualche esempio di operazioni culturali politiche alcune riviste sicuramente marginali possono essere considerate addirittura episodiche in certi in certi ambiti ma tutte finalizzate anche per la qualità del prodotto che si offre tutte finalizzate ad una battaglia politico-culturale ben precisa negli anni mi sono reso conto lavorando sulle parole scritte sulla grafica eccetera dei guffini che c'è un evidente pedisseco seguire quelle che sono le necessità politiche del partito ed è evidente che il momento un momento di misurazione dell'efficacia di questo lavoro svolto dagli universitari che per autorappresentazione si sentono effettivamente i campioni della morale della difesa della rivoluzione della difesa di principi di ortodossia con una baldanza giovanile che può criticare sicuramente il sistema ma non diventa mai antisistemica questo tipo di lavoro fatto all'interno di determinate produzioni di determinate riviste segue perfettamente come dicevo le esigenze politiche del partito un momento di scontro fondamentale rimane secondo me quello nei confronti della società delle nazioni e quindi arrivare a considerare la democrazia come il principale elemento che rappresenta una sorta di opposizione morale al concetto stesso di dignità fascista questo lo si vede attraverso il lavoro di una serie di personaggi che collaborano ad iniziative largamente finanziate c'è un periodico che viene stampato dovete immaginare che prima che l'Italia esca dalla società delle nazioni nel 1937 e questo comporterà l'uscita anche della struttura GUF dalla CIE cioè della struttura universitaria internazionale dovete immaginare che prima c'era un dibattito un dialogo attraverso riviste specializzate la lingua per eccellenza era quella francese con cui si comunicava e si scambiavano in consessi internazionali i materiali che poi giungevano da Ginevra o lì tornavano è una rivista interessante che è un supplemento un appendice diciamo al foglio gufino bolognese all'assalto è sicuramente Nuova Guardia Nuova Guardia è un periodico che viene stampato in lingua francese spesso con traduzioni in lingua inglese in cui si cerca di dialogare con gli universitari europei e questo lo si fa su tematiche ben su tematiche ben specifiche uno dei cavalli di battaglia degli universitari per buona parte degli anni 30 sarà il tentativo di spiegare il corporativismo a livello internazionale e quindi dibattiti su modelli economici sul significato di crisi un altro aspetto interessante è che da queste riviste avrà una ricaduta diretta su aspetti di stile di costume vi potete immaginare come verrà giudicato quando è un momento in cui si metterà sul piatto la questione di Moravia degli indifferenti e quindi qual è il concetto di crisi che sta dietro a tutta una serie di derive culturali che vengono viste come pericolose dal fascismo italiano questo percorso che parte con un tentativo di dialogo appunto nei confronti del resto della gioventù universitaria europea c'è un momento di sedimentazione molto precisa tematica fra la spedizione e quindi la guerra d'Etiopia e il varo delle leggi razziali e in questa forbice in questo periodo che va quindi dal 35 almeno tutto il 38 39 che si registrano interventi interessanti sia su determinate riviste sia in quella che poi sarà questo lo si vede facendo un lavoro di scavo al ministero degli affari esteri vedendo come determinati ambasciatori o determinato personale diplomatico utilizzerà studenti universitari italiani esponenti del guf che risiedono in quel momento all'estero in funzione non soltanto di promozione del fascismo ma di tentativo di confutazione di quella che è l'immagine giudicata errata del fascismo all'estero questo sarà centrale per il lavoro che si svolgerà in Francia in Inghilterra potenze cosiddette sanzioniste quindi immaginatevi quasi per scala gerarchica un personaggio come Dino Grandi che starà a Londra per anni svolgendo quello che in un telegramma Mussolini definisce questa è la mia trincea questa è la mia trincea di difesa dei presupposti dell'italianità offesa dal sanzionismo per caduta esistono ovviamente tutta una serie di riproduttori di slogan o comunque di interpreti a livelli differenti degli stessi messaggi che sono in dei momenti soprattutto alla fine del 36 primi mesi del 37 particolarmente virulenti nei confronti di che cosa nei confronti di chi non comprende le esigenze italiane che sono esigenze di difesa questo è forse il concetto più interessante che emerge nella nostra idea di colonialismo della nostra idea cioè tutto continua a derivare sembra questa sembra uno dei cavalli di battaglia privilegiati appunto dalla prosa gufina l'idea di una un'immagine di razzismo che si coniuga da una parte sull'aspetto demografico da quell'altra ovviamente sull'idea fermata da Mussolini nella fine degli anni 20 di essere la nazione che moralmente deve fare blocco nei confronti della quella che Mussolini definisce con una parola un po' desueta l'insorgenza delle razze nere e gialle quindi l'Asia e l'Africa come luoghi dai quali possiamo aspettarci come continente come scenario europeo soltanto una logica di invasione e quindi di peggioramento delle nostre condizioni fisiche culturali e morali di conseguenza è evidente che accaduta da questo tipo di impostazione le università con personalità in maniera più o meno disinvolta si compromettono con questo tipo di ragionamento che lo abbiano condiviso o meno questo è abbastanza poco importante ai fini del ragionamento che sto facendo adesso il metro dell'ambizione sicuramente nel momento in cui come vi dicevo tutto sta all'interno del GUF rimane un aspetto fondamentale questo tipo di ragionamento non può non prevedere il tentativo di definire noi stessi sempre abbastanza farraginoso sempre abbastanza difficile non c'è soltanto il problema di come definire se si riesce a definire un'arte fascista ma c'è il problema di definire l'italiano fascista chi è l'italiano di Mussolini una delle cose che si tende a capire abbastanza bene della prosa gufina è che si utilizza uno strumento non banale cioè si cerca di fare una definizione di noi stessi attraverso quello che non siamo di conseguenza il momento del razzismo è un aspetto molto interessante noi siamo anti tante cose siamo non solo anti borghesi ma ovviamente e quindi anche anticapitalisti in buona parte ma soprattutto e quindi anticomunisti dall'altra ma certamente siamo contrari a tutta una serie di immagini che si racchiudono sotto una parola molto utilizzata a livello universitario in quel momento che è l'ibridismo cioè noi non ci dobbiamo confondere con nessuno noi dobbiamo rimanere razzialmente sani perché razza uguale morale e morale è uguale a tutta una serie di valori che sono simboleggiati in un discorso inquietante dell'allora rettore Serpieri a Firenze che collega il ruralismo al valore fondante dei nostri principi etico morali e allo stesso tempo il netto rifiuto di tutto quello che sta fuori è interessante che se cose di questo tipo vengono da un rettore come quello di Firenze e vengono dai principali esponenti dell'antropologia di questo paese si potrebbe fare una discreta corposa lista di nomi ma non è particolarmente interessante secondo me fare questa operazione di recupero di chi si è più o meno compromesso quello che mi interessava soprattutto mettere in evidenza erano i modi con cui si prova ad introdurre questo tipo di ragionamento e c'è un ragionamento abbastanza diversificato nel momento in cui ci si rivolge al fronte interno nel momento in cui questo tipo di confronto si prova a farlo verso l'esterno se Serpieri e altri personaggi della cultura accademica dell'epoca definivano questa tenuta autarchica da un punto di vista morale e culturale come aspetto fondante ci sono degli universitari che scrivono su alcune riviste che timidamente provano a spostare la questione a dire questo succede per una rivista come quella di Venezia il 21 che ogni tanto capita di trovare il problema è che spesso queste riviste se ne parla si censiscono ma non si leggono e capita che poi si trovano addirittura con nomi sbagliati il 21 spesso viene cambiato da molta storiografia come ventennio e si chiama il 21 questo giornale questo quindicinale veneziano che è piuttosto importante come potete immaginare per la questione cinematografica c'è un articolo di un personaggio che si chiama Belardinelli che ritornerà spesso nella fine degli anni 30 perché passerà ad una rivista molto più importante di cui parleremo fra poco questo prova a sostenere ad un certo punto contro queste impostazioni decisamente di chiusura prova a fare un riferimento a quella che è la letteratura della crisi che si trova fuori dall'Italia e che sarebbe probabilmente interessante valutare confrontarsi con questo tipo di messaggi si parla di letteratura ma di cultura in genere cercare di comprendere lo spirito dei giovani e il loro eventuale disagio nel momento in cui si vivono tutta una serie di contraddizioni abbastanza squadernate nella seconda metà degli anni trenta questo articolo che è degli inizi del trentasette passa abbastanza in sordina come è normale che sia sono anche riviste piccole è vero che c'è molto scambio però dobbiamo anche renderci conto che molto spesso si osservano probabilmente da un punto di vista censorio determinate riviste con un atteggiamento anche di corretta valutazione della reale inefficacia di determinati messaggi cioè una rivista come quella di Venezia concretamente avrà una circolazione talmente limitata che probabilmente non creerà non contribuerà ad alimentare un dibattito che avrà una ricaduta particolarmente ampia quindi non ci sono particolari reprimende in quel momento particolare semmai c'è una strategia interessante di molte redazioni è cercare di mettere una sorta di controcanto e quindi magari far vedere possibili opinioni differenti questo capita soprattutto nell'ambito artistico culturale ma la tecnica che si utilizza soprattutto nei riguardi del del fuori di quello che dovrebbe in qualche forma dialogare con noi a livello giovanile è particolarmente ben impostato a partire dal concetto del dibattito io ti pongo di fronte al problema del razzismo ti faccio un numero monografico di una rivista come Nova Guardia e te la costello di punti interrogativi questa rivista è molto interessante anche da un punto di vista di dispendio evidente queste sono riviste che costano tanto bicromia grande ricorso alla fotografia una delle cose più utilizzate questa è stata abbastanza poco valutata da quelli che si occupano di fotografia l'importanza del fotomontaggio all'interno della tradizione delle riviste universitarie c'è un largo ricorso addirittura si vedono come buona parte delle illustrazioni che fanno ricorso al fotomontaggio che sono poi diffuse le potete trovare tranquillamente in rete molte di queste cose che sono tipiche dell'immagine dell'estetica fascista vengono molto spesso dalle riviste gufine c'è probabilmente uno degli esempi forse più importanti è una delle immagini classiche della difesa della razza quella con il gladio che divide i tre profili quello latino da quello giudaico e quello e quello africano che è la conseguenza di un premio vinto per i lettoriali del 39 e quindi quello è Palazzini se non ricordo male del guf di Perugia che vince il primo premio per questo lavoro appunto sarà interessante notare come in quel momento si può fare anche del mecenatismo Bottai fa una cosa del genere acquista ai lettoriali del 39 un bozzetto che vince il primo premio agli lettoriali per la categoria di bianco e nero che è appunto la caricatura di un ebreo e questa viene largamente pubblicizzata dal giornale fascista dal giornale del guf di Firenze proprio perché l'autore di questo l'autore di questo bozzetto è proprio un gufino dell'Ateneo fiorentino e quindi questo dà maggior gloria al gruppo io vi volevo far vedere rapidamente volevo passare in sequenza queste sì partirei dalla prima e volevo far vedere semplicemente come è composta questa rivista questo appunto Nuova Guardia è legato appunto a questo reportage che viene fatto per il per un consiglio internazionale della struttura universitaria europea appunto della struttura internazionale che praticamente sarebbe l'omologo universitario della società delle nazioni con sede appunto a Ginevra questo periodico è abbastanza interessante in questo caso perché tematizza la questione del razzismo sotto forma di inchiesta successivamente ce ne sarà uno piuttosto interessante e sempre volutamente argomentativo sulla questione delle sanzioni imposte all'Italia io le scorrerei perché vi volevo semplicemente far vedere al di là del fatto appunto potete guardare stilisticamente come è composto una rivista di questo tipo carta lucida bicromia e grande ricorso alle illustrazioni allora questo è praticamente il leitmotiv del numero e della rivista cioè si mette questa idea centrale del fatto che stiamo facendo un dibattito e quindi noi siamo aperti a discutere la questione della dignità o meno di un percorso razzista da proporre su scala internazionale nel momento in cui si sta dibattendo sulla sensatezza dell'invasione da parte dell'Italia di un altro membro della società delle nazioni cioè siamo in un momento in cui la questione della dignità fra nazioni viene posta in discussione dall'Italia chiaramente a Ginevra e chiaramente la struttura internazionale si pone in un atteggiamento opposto vai ancora volevo arrivare eccoci qui siamo di fronte a una delle operazioni più classiche del lavoro fatto dai guffe in questo periodo cioè cercare di dimostrare semplicemente attraverso il confronto grafico la differenza di dignità che esiste fra gruppi umani e quindi fra virgolette razze l'idea viene ripresa da una rivista con un peso sicuramente importante che è Libro e Moschetto che in piene sanzioni pubblicherà una pagina centrale cioè su due pagine centralmente voi avrete da una parte l'immagine di una serie di bambine che fanno i giochi di fronte all'interno di uno dei tanti stadi dove si praticava appunto la cultura fisica giovanile durante gli anni trenta lo studio fotografico è interessante i corpi sono slanciati l'immagine è presa dal basso verso l'alto verso la luce verso la bianchezza di queste figure in movimento e dall'altra parte senza un particolare commento voi avete l'immagine di una donna cenciosa in condizioni di totale difficoltà fisica umana in un qualunque luogo dell'Africa orientale che abbiamo occupato ricordatevi che un aspetto importante rimarrà sempre questo nella retorica fascista di quel momento noi in definitiva non siamo soltanto portatori di civiltà ma siamo essenzialmente coloro che all'interno di un consesso internazionale come quello democratico ginevrino sostengono l'importanza della fine della schiavitù perché si definisce quello abissino chiaramente un contesto dove vige la più crudele e più evidente forma di schiavitù di conseguenza noi siamo e rimaniamo non soltanto dei liberatori di schiavi ma siamo coloro che riportano dignità ad un pezzo di mondo e questo ci aiuta ancora di più nel dibattito dell'epoca per far capire la cattiva coscienza dei paesi che ci stanno sanzionando proprio per il fatto che sono i paesi che si sono basati su un concetto classico di schiavitù di sfruttamento di buona parte del mondo coloniale che conoscevamo qui ci sono una serie di immagini in cui si cerca di far capire come l'indottrinamento determinate forme di saluto tipiche del fascismo eccetera vengono viste dall'esterno con una sorta di c'è un evidente tentativo di guardare a noi stessi con il problema del giudizio che viene dall'esterno e quindi in che misura noi riusciamo a giustificare le nostre forme le forme le rigidità del periodo staraciano tutto un determinato tipo di estetica queste cose sono largamente argomentate in articoli che è interessante in questo momento ospitano all'interno del GUF quando si confezionano questi numeri ospitano studenti stranieri cioè studenti stranieri che fanno parte dell'Ateneo Bolognese o di altri Atenei vai avanti che stavo cercando sì qui sono slogan della pagina centrale volevo arrivare ad una cosa particolare questa ecco queste sono le cose che si fanno vedere in maniera ricorrente appunto dove si vede questo senso di evidente mancanza di dignità nel questa cosa ricorre se ci pensate molto e ha una grande derivazione da quello che è il lavoro di un antropologo come Cipriani per esempio che ha fondato un gabinetto d'antropologia a Firenze particolarmente importante tutta questa serie di studi fotografici di rilevazione di quelli che sono gli atteggiamenti modi l'abbigliamento l'estetica le caratteristiche della tribalità in determinate condizioni vengono sempre considerate come un disvalore per concetto e questo è un aspetto interessante per quello che è poi secondo me il per come ci colleghiamo da questo momento qui al dopo cioè il modo in cui proveremo a trattare a tipizzare tutti gli altri nemici del fascismo e uno di questi sarà ovviamente il giudaismo internazionale vai ancora avanti Mattia ancora per favore eccoci queste sono immagini tipicamente prese da stampa tedesca queste sono immagini che cercano di far vedere l'operosità il modo in cui in una realtà occidentale si tratta la gioventù e quindi indirettamente si discute non solo di demografia ma di provvidenze del regime nei confronti della popolazione quindi maternità infanzia e il resto questi sono aspetti largamente ricorrenti nella propaganda dell'epoca e che hanno sicuramente anche una serie di ricadute sul dibattito internazionale eccoci questo fascicolo con cui chiudiamo questa questione di nuova guardia è interessante perché si occupa esattamente del tentativo di giustificare il nostro tipo di occupazione in Africa orientale e in conseguenza di quello che fu il processo sanzionista l'Italia si pone e il GUF la sostiene largamente questa visione si pone un atteggiamento chiaramente da vittima di un sistema che internazionalmente ci punisce e ci sono un paio di immagini interessanti che tentano appunto di fare nuovamente il confronto fra quella che è la marzialità e la modernità dell'italiano bianco che va in Africa e di quella che è la cenciosità appunto dell'africano dell'epoca vai fino a quando lo troviamo eccoci questi sono ovviamente i concetti di barbarie collegata all'Etiopia in quanto tale continua questa idea della morbidità ecco questo è interessante è interessante soprattutto il riquadro in basso dove questa immagine fu ripresa abbastanza abbastanza interessante di questa di questa immagine parlerà Tasca nel suo esilio parigino nel momento in cui lui si trova di fronte a questa cosa e la utilizza nella stampa dell'epoca lui scrive sulle Populaire il giornale della Sfio quindi il giornale sul quale il fronte popolare il fronte popolare quindi Leon Blum discutono anche molto di politica estera l'immagine del fascismo che colpisce a livello internazionale è questa appunto e far vedere e Tasca ne discuterà molto in termini morali cioè su come il nostro sia effettivamente un tipo di colonialismo tipicamente ottocentesco proiettato sullo scenario degli anni 30 e questo è il modo con cui appunto una rivista particolarmente ben curata da un punto di vista estetico e da un punto di vista tecnico compositivo come questa rivista del GUF si cerca di trattare la questione in questo numero ci sarà un'importante risposta che l'allora presidente in questo momento il presidente di questa struttura internazionale universitaria è italiano Edino Gardini personaggio che farà esattamente la risposta a questa struttura internazionale esattamente come il partito farà in adeguate sedi a Ginevra rispondendo appunto a quello che è tutta una serie di punti che vengono posti all'Italia nei confronti della questione dell'occupazione Gardini risponderà in maniera abbastanza specifica tutta una serie di questioni relative alla dignità del nostro impegno in Africa orientale che comprendeva in quel momento anche l'invio di battaglioni universitari penso che con questo possiamo possiamo chiudere e la saldatura secondo me di come vedete poi il passaggio successivo nel momento in cui si torna in Italia non è tanto la giustificazione della nostra della bontà del nostro atteggiamento in Africa orientale rispetto alla barbarie conclamata ma invece sarà ben più aggressivo e differente c'è una piccola precisazione da fare i guf nel ricevere tanta credibilità nel ricevere tanta visibilità e tanto denaro arrivano ad avere una dignità particolare quella di essere ospitati con una rubrica autonoma in una delle riviste più importanti del regime in assoluto che è Gerarchia Gerarchia è un giornale ufficiale Gerarchia è un giornale che fa opinione è un giornale che è un periodico che propone articoli che vengono sistematicamente ripresi e discussi nel dibattito intellettuale e politico italiano dell'epoca dalla fine del 34 i guf hanno una rubrica specifica io rapidamente voglio andare alla fine perché vorrei lasciare appunto è già molto tardi però vi vorrei far vedere una delle una delle immagini che questa immagine appare su Gerarchia appunto all'interno della rubrica del guf è particolarmente ben realizzata si chiama Male Erbe e chiaramente come vedete l'immagine è piuttosto differente rispetto al modo in cui si cerca di descrivere il nostro colonialismo all'estero questa idea del fascista Nerboruto che è allo stesso tempo soldato e colono e tutto questo è ospitato all'interno di un settore di una rivista di un settore dedicato al gufe di una rivista prestigiosa ti mette in evidenza questo evidente disprezzo e scontro di civiltà a questa a questa illustrazione ne fanno seguito nei numeri successivi è interessante vedere come ritorna e questo sarà ricorrente all'interno della stampa gufina l'orgoglio del legionario ovviamente di conseguenza questa idea dell'essere allo stesso tempo persone che dal mondo degli studi sapientemente riescono a passare all'interno di un mondo ben diverso che è quello delle armi quindi arriveremo al punto in cui Libro Moschetto in periodo di guerra perderà la parola libro con una X sopra con una croce sopra e rimarra soltanto il Moschetto questa cosa in anticipo nel periodo appunto della guerra d'Africa viene sintetizzata l'immagine del cosiddetto volontarismo goliardico così caro anche a Pisa a Padova città di questo tipo qui viene simboleggiata da una illustrazione che trovate nel giornale del Guff di Firenze appunto che è goliardia fascista se non ricordo male questa è l'immagine tipica appunto l'universitario si è messo l'uniforme posa il libro per l'ultima volta c'è il Moschetto in braccio e se ne va quindi cambia questo è il momento dell'adultità è il momento del cambio del cambio di paradigma è questo tipo di orgoglio che si rilancia molto spesso all'interno di questa stampa mi interessava farvi vedere cioè questi sono temi largamente studiati e consueti perché si occupa di pubblicistica gufina ho provato a prendere alcuni di questi esempi per farvi vedere come l'arte grafica e come l'illustrazione serve assolve anche a questa funzione una funzione eminentemente propagandistica ma interna in questo caso cioè dove c'è una concentrazione specifica molto molto forte secondo me di quello che è un concetto di autorappresentazione di cui vi ha parlato Luca prima cioè detta in una maniera poco elegante questa generazione di studenti si prende fortemente sul serio in questo momento da un punto di vista non soltanto politico ma anche di immagine di se stessi da spendere nei confronti del resto della nazione e questo non riguarda soltanto settori ancora più d'elite come potevano essere determinati collegi quindi la realtà pisana o altri ambiti all'interno dei quali poteva essere ancora più distintivo lo status universitario ma in generale la condizione di universitario durante questi anni se impegnato in strutture di questo tipo per le quali non necessariamente si era obbligato a dover partecipare indubbiamente almeno fino ai tardi anni 30 secondo me ha un significato vorrei farvi vedere un'altra anche questa è tratta da gerarchia e qui si stabilisce chiaramente questa idea di ponte con la romanità classica e con quello che è il nostro passato questa illustrazione viene messa in calce ad un articolo ad un articolo di quel Berardinelli di cui vi parlavo prima che arriva all'importanza alla dignità di una rivista come gerarchia e è interessante vedere il passaggio si arriva a gerarchia ma si scrive in una maniera ben più consona al tenore della rivista e tutto questo si svolge in un momento in cui si rilancia il concetto di romanità da un punto di vista culturale nei confronti di un resto del mondo sono parole che chiaramente vado più o meno a cittare a memoria nel contesto di un mondo che da un punto di vista morale si offende proprio perché non ha lo stesso tipo di dignità e l'ultima cosa che vi faccio vedere e poi chiudiamo è il tipo in cui il modo in cui chiaramente i giornali universitari in questo caso una rivista come quella di Cremona eccoci in piena campagna razziale antisemita pubblica un paio di illustrazioni che non sono italiane questa è stampa tedesca queste vengono quindi sono riprese dovete perché vi faccio vedere questa cosa non soltanto per vedere il tipo di ragionamento che si prova a fare attraverso la grafica ma cercare di introdurvi se non altro il concetto di una centrale di una redazione che a monte ha sicuramente con efficacia la capacità di andare a pescare queste cose ti vengono dette anche chiaramente in termini memorialistici da diverse persone che hanno frequentato le sedi dei guff all'epoca effettivamente la larghezza dei mezzi consentiva di avere biblioteche ben fornite e consentiva di avere il confronto con riviste straniere questo era molto importante in certi casi sprovincializzava anche gli individui in certi casi ti metteva in condizione invece di poter far ricorso per esempio a questa che è una tipica illustrazione che si trova nella propaganda tedesca susseguente alle leggi di Nuremberg quella successiva secondo me è ancora più interessante perché viene messa come vedete in pieno 38 questo ritorno a quel concetto mussoliniano che dicevo prima esteso dall'Italia all'Europa cioè noi abbiamo un problema il problema in questo caso è il bolshevismo internazionale che soprattutto di matrice ebraica ha la volontà di quindi è un complotto che porta a che cosa alla distruzione in questo caso dei valori di un continente e quindi anche questa è un'illustrazione che viene da lontano un'illustrazione che viene da fogli nazionalsocialisti è interessante il fatto che venga ripresa all'interno di una rivista come Eccoci perché è una delle poche che all'epoca arriverà nel pieno momento dell'alleanza anche politico-culturale con il nazionalsocialismo arriverà a stampare in casi particolari numeri in doppia lingua e quindi voi avrete in contemporanea le immagini dei due dittatori avrete a confronto articoli di saluto della gioventù nazionalsocialista e della gioventù italiana questo è soltanto la ricaduta che abbiamo a livello giornalistico per esempio di operazioni ben più ampie con gli scambi culturali eccetera che sono stati ricordati dalla memorialistica e da un po' di storiografia il tutto arrivò a con un'operazione tutto sommato anche poco dignitosa ad andare a ripescare molto recentemente i personaggi che come come Pintor o altri hanno partecipato appunto agli scambi ai gemellaggi con cui andavano a vedere le mostre d'arte nella realtà nazionalsocialista eccetera concludo semplicemente ricordandovi un aspetto noi qui ci occupiamo ed è sacrosanto all'interno di questo all'interno di questo percorso essenzialmente di artigrafiche figurative di estetica eccetera l'università nel nel tipo di rilevazione che ho provato nel tempo a compiere si è dimostrata a me questa questa cosa che vi dico mi è venuta in mente quando per la prima volta ho visto la mostra permanente sulla compromissione del corpo accademico berlinese nei confronti dei piani di espansione ad est questa mostra questa piccola mostra ospitata nell'ingresso dell'università della von Humboldt a berlino mi sono messo a pensare in quel caso guardando nomi e cognomi come si piega la didattica ad un certo tipo di necessità politiche di espansionismo eccetera mi sono posto il problema di quanto poco si sia fatto un lavoro da questo punto di vista in Italia cioè di quanto effettivamente l'accademia si sia prestata ad un lavoro particolarmente lavoro spiccato di spalleggiamento di quelle che sono le esigenze politiche diplomatiche dell'epoca e allora quello che si nota è e con questo concludo l'aspetto evidente se si arriva ad utilizzare la scienza e determinate discipline per dare una patina di autorevolezza a concetti che comunque erano diffusi nel patrimonio culturale internazionale già da decenni e quindi arrivare a dimostrare che di fatto esiste l'ineguaglianza dell'essere umano gli uomini non sono uguali né per caratteristiche fisiche né per caratteristiche morali se questo è così e a questo punto è stabilito a livello scientifico non dobbiamo stupirci che questo supporto dato dall'accademia abbia una ricaduta evidente che è quella dello zelo nel momento in cui noi abbiamo alle nostre spalle qualcuno che abbia un nome tutelare o comunque qualche disciplina e qualche specialismo che ci spalleggia è anche molto comprensibile che si possa arrivare ad essere fortemente puntigliosi fino ad essere odiosi nel momento in cui si stigmatizzano i nemici e l'operazione con cui si conclude per esempio il lavoro del gabinetto di antropologia gestito dal GUF di Firenze è quello di andare a fare un'ulteriore schedatura degli ebrei stranieri che possono terminare di laurearsi a Firenze ma non possono iscriversi al GUF queste persone vengono contate misurate eccetera eccetera questo lo si fa come conseguenza evidente di una fede in un'idea eugenetica che viene dai gabineti di antropologia fiorentina già da un ventennio e che ha una ricaduta evidente in piene leggi razziali quello che si trova sono gli opuscoli e con questo proprio chiudo davvero vi faccio vedere la prima pagina di questo che è il centro di studi sulla razza che viene fondato a Firenze ma ce ne sono di omologhi in tante università italiane Milano è una di queste si organizzano dei scambi inter-GUF per discutere di queste tematiche all'interno di questo centro di studi sulla razza esistono tutta una serie di studenti che lavorano c'è qualcuno sopra che è il il professor Biasutti che si occupava di geografia ma aveva piegato il concetto di geografia in questo momento qui ad un problema di dignità di differenti zone zone geografiche del mondo e allo stesso tempo appunto un personaggio come Lidio Cipriani che aprì il suo archivio e fornì molte di quelle immagini che avete visto prima legate all'Africa orientale io vi ringrazio scusate la assistematicità del mio procedere che spesso funziona sempre che mi porto un sacco di cose da leggere non giro neanche la prima pagina perdonatemi ho provato a darvi un po' di suggestioni se più tardi ci sarà un po' di dibattito sono aperto a qualunque tipo di critica e demolizione grazie ringrazio Simone Duranti e appunto rimandiamo le domande alla parte conclusiva della giornata e invito Maddalena Carli che è ricercatrice storica contemporaneista della facoltà ancora di scienze politiche dell'università di Teramo devo lasciarti il posto va da solo vorrei innanzitutto ringraziare Mattia e anche Vanessa Martini di avermi invitato a partecipare a questa giornata di studi molto interessante e cominciare sottolineando come apparentemente il mio intervento sia tangenziale al tema oggetto della discussione non trattando direttamente né dei gruppi universitari fascisti né delle loro riviste in realtà parlare di mostre e di politica espositiva del fascismo in questa sede è tuttavia meno eccentrico di quanto possa sembrare in primo luogo perché i GUF in quanto specifica organizzazione del regime fascista nella dimensione simbolica evocata dai giovani inquadrati nei gruppi e nelle loro sezioni sono stati raffigurati nelle esposizioni fasciste come testimoniato da alcune delle immagini che cominceranno a breve a scorrere nello schermo mi riferisco nello specifico e tra i molti esempi che sarebbe possibile avanzare alla pittura murale effimera libro e moschetto realizzata su una parete delle scale che collegavano il piano terra e il primo piano della mostra della rivoluzione fascista del 32 al palazzo delle esposizioni di via nazionale di roma a una installazione plastica presente in una delle sale del primo piano della stessa mostra che ritrae la componente giovanile dei fasci italiani all'estero all'installazione di giuseppe terragni ospitata in una delle sale più suggestive della stessa mostra la sala dedicata al 22 che rappresenta l'inquadramento delle forze giovanili del regime alla sala dedicata all'interno della mostra dello sport del 35 ai gruppi universitari fascisti al trittico di Cesare Maggi Italica Gens una delle tele esposte in occasione della terza edizione del premio Cremona del 1941 dedicato in una sua parte ai littoriali dello sport nell'altra ai littoriali della cultura fascista parlare di esposizioni nel corso di una giornata dedicata alle riviste dei Guff in secondo luogo mi sembra avere senso perché le mostre rappresentano un dispositivo importante nella produzione dell'immaginario fascista e un'occasione per riflettere sulla centralità attribuita dal regime alle immagini che spiegazioni è possibile dare della natura fortemente visiva della cultura fascista e della presenza pervasiva quasi ossessiva direi delle forme simboliche nei rituali e nelle liturgie di massa promossi durante il ventennio che tipo di relazioni si possono stabilire tra il fascismo e il modernismo ne accennava Mattia nella sua presentazione di questa mattina proverò ad avanzare alcune riflessioni sui principali interrogativi sollevati dalla teoria postmoderna a partire dallo straordinario cantiere rappresentato dall'organizzazione e dall'allestimento delle mostre fasciste degli anni 30 nella convinzione che nel potere generatore e rigeneratore attribuito alle immagini risieda una delle chiavi di comprensione dell'uomo nuovo del fascismo e al tempo stesso una delle peculiarità della modernità fascista e la sua principale differenza con la postmodernità cominciò con una citazione il museo ha una doppia e complementare funzione escludere il resto e costituire con questa esclusione ciò che intendiamo con il termine arte non è un'esagerazione dire che il concetto di arte ha subito una trasformazione profonda quando si è aperto e richiuso lo spazio destinato a definirlo con queste parole lo storico dell'arte Jean-Claude Lebenstein sintetizzava in un importante esagio sul ruolo e le funzioni del museo pubblicato nel 1981 la centralità nel processo di formazione del campo artistico di quello che i teorici del moderno chiameranno lo spazio di esposizione museo esposizione ufficiale fiera internazionale o esposizione privata avrebbe puntualizzato qualche anno dopo Rosalind Krauss affiancando alla stabilità delle istituzioni museali la natura effimera delle manifestazioni espositive e insistendo sulla loro importanza nella costruzione del discorso modernista che altro non sarebbe se non cito sempre da Krauss la costituzione dell'opera d'arte in quanto rappresentazione del proprio spazio di esposizione spazio di esposizione come dispositivo di inclusione e di esclusione come occasione di verifica per provare a circoscrivere il discorso al fascismo e all'orientamento mecenatistico che ne ha caratterizzato le politiche culturali degli artisti ritenuti idonei a ricevere i finanziamenti statali e il riconoscimento del regime dei temi e degli stili ammessi quando non incoraggiati e di quelli vietati ma anche estendendo il ragionamento alla funzione politica attribuita dal fascismo all'arte esposizione come spazio di costruzione del consenso di missione dei visitatori in un immaginario costruito ad hoc per trasmettere valori ideali programmi segmenti del passato e raffigurazioni del futuro e per estromettere brutalizzandoli avversari e nemici politici e razziali uno spazio che è andato ampliandosi ha acquisito sempre maggiore rilevanza negli anni trenta del novecento quando alle mostre della consacrazione ufficiale biennale di venezia triennale di milano quadriennale di roma e sindacali si sono aggiunte manifestazioni non seriali e tematiche dedicate ad argomenti specifici e caratterizzate da allestimenti poliedrici che rinviano alla complessità e alla globalità dell'opera d'arte totale di wagneriana memoria e di cui vedrete alcune riproduzioni nelle immagini che seguono mostra della rivoluzione fascista 1932 Roma dell'aeronautica 1934 Milano dello sport 1935 Milano della stampa cattolica 1936 città del Vaticano delle colonie estive dell'assistenza all'infanzia 1937 Roma del testile nazionale 1937 Roma Augustea della Romanità 1937 Roma del minerale italiano 1938 Roma di Leonardo e delle invenzioni italiane 1939 Milano del cinema 1940 Venezia delle terre italiane d'oltremare 1940 Napoli per non citare che le manifestazioni maggiormente rappresentative sul piano degli artisti presenti e degli allestimenti proposti di un lungo elenco che ha coinvolto i principali centri urbani della penisola sull'importanza delle esposizioni hanno d'altronde insistito le riflessioni di alcuni tra i più famosi artisti e intellettuali fascisti per limitare all'Italia idee e riflessioni di portata europea in un articolo pubblicato su costruzioni Casabella nella primavera del 41 tra le pagine di un numero interamente dedicato alle esposizioni Giuseppe Pagano non esitava a dichiarare che cito uno dei più efficaci veicoli per la conoscenza la diffusione e la saggiatura delle idee che presiedono al gusto moderno è rappresentato dalle esposizioni noi possiamo di fatti diagnosticare con la massima esattezza le tappe più recenti del gusto contemporaneo seguendo con attenzione la cronaca delle diverse esposizioni che hanno tenuto ad estra l'attenzione del mondo civile negli ultimi cinquant'anni fine della citazione le esposizioni come filo rosso attorno al quale ricostruire la storia dell'estetica contemporanea e al suo interno di quella fascista a cominciare dalla molteplicità di stili o dall'eclettismo estetico come ha suggerito Emilio Gentile per ovviare all'inadeguatezza dell'espressione possibilismo artistico che ne ha qualificato la natura moltiforme senza tuttavia mai derogare a una funzione primaria unificante e fondante dare visibilità ai miti del regime e renderli un'esperienza collettiva fruibile dagli autori che sovrintesero e collaborarono alla progettazione delle mostre quanto dal pubblico che vi si recò in visita le esposizioni continuava Pagano si caratterizzano una provvisorietà che diminuisce al minimo la responsabilità economica dell'esperimento che giustifica le necessità turistiche dell'avvenimento con la generosa accettazione del nuovo che offre agli organizzatori l'occasione di aver sotto mano e a buon prezzo gli artisti più vivi e più discussi che permette e fomenta la discussione luoghi utopici dove si sfogano i sogni degli architetti moderni e dei pittori degli scultori dei cineasti dei fotografi degli artisti dunque a cui il carattere transitorio e poliedrico degli allestimenti concede inedite possibilità di sperimentazione gli immaginari espositivi sono sistemi ibridi in cui convivono e interagiscono tra loro linguaggi espressivi profondamente differenti architettura pittura scultura fotografia cinema design e arti decorative per non citare che le discipline maggiori in cui è probabile imbattersi quando ci si confronta con le esposizioni moderniste degli anni 20 e 30 del novecento sono state la duttilità e l'avversalittilità di queste esposizioni ad aver attirato l'attenzione della storiografia post-strutturalista americana fin dagli anni 90 del secolo scorso e ad aver ispirato ad alcuni dei suoi esponenti penso ad esempio a Jeffrey Schnapp interessanti parallelismi con le installazioni caleidoscopiche multimediali della seconda metà del novecento in sintonia con il profondo ripensamento delle relazioni tra avanguardie e neo-avanguardie che ha qualificato gli sforzi interpretativi dei teorici del moderno tra gli episodi maggiormente frequentati della produzione espositiva fascista vi è senza dubbio la mostra della rivoluzione del 32 la prima edizione cioè dell'evento di durata decennale che ha inaugurato non soltanto la lunga serie delle esposizioni a tema degli anni della normalizzazione totalitaria ma anche la grammatica visuale e la configurazione spaziale che hanno fatto dell'Italia fascista un paese all'avanguardia nell'arte della mise en scène facendo dialogare i suoi prodotti con l'expo universale francesi e con i grandi appuntamenti della modernità europea come la mostra internazionale della stampa tenutasi a colonia nel 28 o le imponenti rassegne del costruttivismo sovietico ricordo brevemente che la mostra della rivoluzione aprì una prima volta al palazzo delle esposizioni di Roma nel 1932 e che venne riproposta in altre due occasioni nel 37 alla galleria nazionale d'arte moderna di Valle Giulia in concomitanza del bimillenario augusteo e nel 1942 come manifestazione inaugurale delle celebrazioni per il ventennale nel mezzo una lunga storia caratterizzata da tentativi di trovarle una sede definitiva e di trasformarla in istituzione permanente uso massiccio e innovativo dei fotomontaggi ne accennava Simone all'importanza dei fotomontaggi nell'estetica fascista riarticolazione degli spazi attraverso installazioni che ridisegnavano pareti soffitti e pavimentazione dell'edificio originario spiccato senso dell'effimero illuminazione volumetrica di dascalie improntate ai più moderni criteri della catalogazione museale riduzione al minimo degli originali e impiego costante di copie o duplicati fotografici in gesso sul diorama in nome della scomparsa dell'aura dell'opera d'arte progettazione e realizzazione di una facciata transitoria che trasforma il palazzo delle esposizioni fin dall'esterno preannunciando e fortificando la dimensione spettacolare degli interni insistenza sul valore taumaturgico iconografico dei documenti per limitarsi ad alcuni degli aspetti che hanno reso quella del 1932 una mostra modernista un tuffo perfetto nel mare delle novità così la definì Filippo Tommaso Marinetti per esaltarne lo spirito futurista oltre che per l'estetica apertamente moderna la mostra del 1932 colpisce per il dispositivo organizzativo cui ha dato origine evento di punta delle commemorazioni per il decennale della marcia su Roma l'esposizione è stata oggetto di convenzioni agevolazioni promozioni e incalzanti campagne propagandistiche che ne hanno fatto la meta di un vero e proprio turismo politico culturale antelitteram un circuito turistico favorito dalla condizione di monopolio del partito unico e delle istituzioni dello stato totalitario e sintomo dell'attenzione dei suoi vertici al coinvolgimento delle masse è sufficiente ricordare al riguardo l'intensa attività che ha accompagnato la collazione del materiale documentario per l'allestimento in vista del quale gli organi centrali e periferici del PNF sollecitarono i prestiti le donazioni e i contributi di cito dalla guida ufficiale della mostra prefetti segretari federali segretari di fasci podestà dirigenti di tutte le organizzazioni politiche sindacali del fascismo musei biblioteche privati autorità dai quadrumvi ai ministri dai senatori ai deputati agli ambasciatori al punto che la mostra della rivoluzione può essere considerata fin dalle modalità impiegate nel reperimento dei documenti e degli oggetti esibiti la reinterpretazione fascista di uno tra gli elementi centrali dei processi di nation building avviati dall'elite liberali nel corso del XIX secolo il monumento come mezzo di autorappresentazione e autocelebrazione pubblica e la sua edificazione come impresa funzionale alla costruzione delle appartenenze collettive non è quindi un caso se l'esposizione del 32 che venne visitata è un dato che vale la pena ricordare da oltre da circa 4 milioni di persone sia stata paragonata a un tempio della fede littoria che è sempre Emilio Gentile che ha utilizzato questa espressione in cui si era invitati a entrare per rivivere le vicende che avevano condotto il movimento fascista alla guida della nazione attraverso un racconto visivo realizzato grazie alla cooperazione di documenti oggetti reliquie manufatti artistici e fondato sul concetto di riproducibilità che mi sembra rappresentare uno dei lasciti di maggiore longevità della museologia fascista ricreare il passato per farlo esperire ai visitatori attualizzarlo per indirizzarlo alle loro emozioni impressionarli e confonderli dunque con tutti i problemi che questa operazione comporta nei confronti della possibilità di percepire la distanza del tempo e di rispettarne l'alterità l'irriducibilità al presente c'è un ulteriore aspetto tuttavia che accomuna e qualifica le esposizioni degli anni 30 contribuendo mi sembra a chiarire la loro importanza nell'opera di fabbricazione del consenso e di costruzione dell'uomo nuovo il potere creatore matrice di storia per riprendere il titolo di un saggio pubblicato da Eric Michaud nel 2001 attribuito dagli artisti e dagli intellettuali fascisti alle immagini in accordo con la loro mentalità modernista e al di là delle scelte formali per le quali ognuno di loro optò nel corso del tempo e nell'evoluzione del proprio itinerario per provare a comunicarne i tratti essenziali vorrei soffermarmi brevemente su un articolo di Giuseppe Bottai pubblicato il primo novembre del 1932 su critica fascista vedere il fascismo un titolo suggestivo e delle pagine penetranti al cui interno il futuro ministro dell'educazione nazionale prendendo spunto dalla mostra della rivoluzione teorizzava l'esistenza di una relazione particolare tra il fascismo e la forma l'articolo inizia affermando che la dittatura fascista era stata capace di determinare un profondo mutamento nella natura dei rapporti tra vita interiore e vita esteriore tra la coscienza e lo spirito degli uomini e le loro attività e i loro comportamenti sociali invece di privilegiare un polo a discapito dell'altro il fascismo aveva infatti optato per una posizione dialettica e interpretando le due dimensioni come complementari aveva scelto di far prevalere il percorso il passaggio dall'una all'altra dal piano della vita interiore a quello della vita esteriore l'uomo fascista non veniva confinato alla sfera dell'interiorità e della singolarità ma alimentava riprendo le parole di Bottai nella collettività la propria vita esteriore di gregario di milite di cittadino che accetta anzi esige la regola di un'organizzazione la tensione verso l'esterno poi non riguardava unicamente gli individui oltre che l'uomo nuovo al quale aspirava l'utopia totalitaria essa attraversava anche la sfera dottrinale e ideologica del fascismo il pensiero le idee e i programmi espressi dalle sue menti migliori passavano continuamente torno a citare Bottai dal mistero dell'elaborazione creativa alla rude e vivida luce della realtà assumendo così un carattere concreto e un'apparenza tangibile poco usuali per i grandi movimenti politici del mondo contemporaneo a differenza della democrazia e del liberalismo il fascismo poteva essere sentito come un'ispirazione un'intuizione un atto di fede e visto in quanto creazione fatto materia poteva venire raggiunto grazie a un movimento dell'anima e posseduto attraverso gli occhi era caratterizzato da una materialità che si prestava agevolmente al concetto di esposizione continua Bottai vedere il fascismo ecco a dieci anni dalla marcia il fatto che domina la celebrazione il fatto è che il fascismo si vede quest'idea è nelle cose è una cosa essa medesima consiste in se stessa causa e fatto ha un peso un contorno una forma non meno del nostro pensiero le nostre mani armate possono difenderla è una cosa che si dimostra come un'architettura in tutti i suoi elementi concreti ben squadrati organi leggi gerarchie istituzioni statuti fine della citazione la visibilità avrebbe dunque rappresentato il tratto caratteristico del regime fascista è la principale fonte di legittimazione dell'esposizione del decennale vogliamo fare una mostra del liberalismo con dei piccoli o grandi niente sotto campane pneumatiche o una mostra delle intenzioni democratiche si domandava retoricamente al termine dell'articolo Bottai per non lasciare alcuna ambiguità sulla effettiva identità dei sistemi politici rivali caratterizzati contrariamente al fascismo dal vuoto dall'astrazione dall'invisibilità secondo Bottai le immagini svolgono dunque una funzione importante nel totalitarismo fascista nella sua politica come nella sua portata utopica le immagini rigenerano e impressionano chi le guarda sul piano letterale e figurato del termine la loro forza consente di pensare alla creazione dell'uomo nuovo come a un movimento dialettico si interviene sulla forma dell'uomo per modificarne l'interno non in alternativa ma per favorirne e agevolarne il rivoluzionamento spirituale nelle parole del fondatore di critica fascista si ritrova la fiducia nel valore politico dell'arte e nelle sue capacità performative così come l'eco di concetti espressi quasi 15 anni prima sulle pagine di Roma futurista in occasione della campagna elettorale durante la quale il partito politico dell'avanguardia artistica italiana aveva perso la propria scommessa ma ha fatto un passo avanti nel percorso che avrebbe condotto buona parte dei suoi esponenti tra le file del fascismo la sostanza delle cose scriveva Bottai nel novembre del 1919 è qual è eterna da secoli la materia è la medesima non dipende da noi sulla questione della sostanza siamo destinati ad un inconciliabile dissidio è un punto dalle oscillazioni lente ciò che è un'importanza capitale e può ricevere la nostra impronta è invece la forma bisogna avere il coraggio di parlarne non aver la mania di parer profondi la vita riformabile mutabile rivoluzionabile è tutta alla superficie la materia intima si adatta alla stampa esteriore diciamo uomini nuovi anime nuove principi nuovi e crediamo di dir tutto è un'assurdità grottesca anche se riuscissimo a mettere assieme tutti elementi nuovi e non intendo una novità solo nominale non otterremmo lo scopo bisogna disporre questi elementi in una maniera diversa fine della citazione l'importanza capitale attribuita alla forma apparenta il fascismo al modernismo e lo radica nel suo tempo più precisamente nella modernità critica del suo tempo lo allontana e lo differenzia al tempo stesso dalla post modernità le cui espressioni visive non avranno la pretesa di rigenerare l'uomo o di crearne uno ex novo tantomeno di cambiarne l'interno fedeli a un pragmatismo e a un'inclinazione alla contingenza sconosciuti alla coerenza e alla violenza dell'utopia totalitaria ma su questo sentiamo forse poi Stefano Chiodi dopo di me grazie grazie a Maddalena e grazie molte e allora invito Stefano Chiodi professore di storia dell'arte contemporanea di Roma 3 a intervenire e ci parlerà c'è bisogno di fare un cambio di computer ci parlerà appunto di ideologia e natura Fabio Mauri e l'estetica fascista allora procediamo a cambiarla mi dovresti staccare la VGA ecco perfetto e poi si si vuoi alimentarlo? no è carico vero vedo ok ok buongiorno 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 ci sarebbe qualche riferimento tipo campano comunque noi vorremmo seguire anche la differenza sarebbe tipo decidere sono allora allora Grazie. Grazie. Due o tre giorni finiremo appunto questo inizio della settimana nuova. Una cosa del genere dovrebbe essere come data di riferimento per la pubblicazione online. Ovviamente informeremo i presenti magari via mail della pubblicazione. Un secondo, scusate, devo trovare... Ecco, allora anzitutto grazie di questo invito. Io sono un... diciamo, vengo dopo esattamente l'intervento di Maddalena Carli, non solo cronologicamente ma anche da un punto di vista diciamo concettuale. Perché laddove appunto il suo intervento si era concentrato su, diciamo, sull'intento di costruire appunto un uomo nuovo e osservando le strategie iconografiche, artistiche, comunicative, che in qualche modo l'universo fascista mette in gioco a questo scopo. Io vi vorrei proporre intanto di guardare quella che sembrerebbe una sorta di risurrezione o di reenactment, come si dice oggi più propriamente, di quello che è il... Scusate, devo fare quest'operazione. Non c'è audio, eh? Dunque, guardate queste immagini. Naturalmente, questo è un filmato inedito, non è stato mai visto, è piuttosto interessante. Vi dico tra un po' di che cosa si tratta, ma diciamo i simboli politici, le uniformi e tutto il resto sono abbastanza eloquenti. Infatti, ve lo faccio vedere qualche istante, è una brutta, come dire, trascrizione di un 16 mm. Un filmato in 16 mm, la qualità è quella che è, però credo sia sufficiente anche un po' per vedere quello che sta accadendo. Ecco, naturalmente c'è un evidente contrasto tra... Questi sono difetti, purtroppo, della trascrizione appunto che mi è stata data. Dicevo, c'è un contrasto evidente tra le uniformi dei giovani italiani e quelli delle giovani italiane che vedrete successivamente, e invece il pubblico che ovviamente non può essere che un pubblico molto più tardo, diciamo, in termini di cronologia. In effetti siamo il 2 aprile del 1971, siamo a Roma, negli ex stabilimenti cinematografici della Safa Palatino, più tardi divenuti celebri, credo, nella Galassia, ma forse direi nell'intero universo, per essere la sede di produzione delle trasmissioni di intrattenimento di Canale 5, tra cui appunto alcune delle più famigerate, tipo queste che vanno in onda il pomeriggio, amici o cose del genere. In realtà nel 71 questo era uno stabilimento cinematografico di epoca giusta, di epoca fascista appunto, abbandonato o comunque diciamo sottoutilizzato in quel momento, e fu utilizzato come set per una delle più straordinarie, ma anche inattese e in qualche modo anche enigmatiche performance di un artista all'epoca non molto noto, e sicuramente non molto noto, per nulla noto come artista politico, Fabio Mauri. Fabio Mauri è una figura molto interessante del panorama dell'arte, grosso modo che va dalla metà degli anni 50 circa alla sua morte che è avvenuta nel 2009, è un artista nato nel 1926, erede di una duplice, titolare di una duplice eredità, è il nipote di Valentino Bompiani, ed è il fratello, la sua famiglia possiede le messaggerie italiane, come si sa sono i grandi editori, i Mauri tuttora, diciamo, secondo gruppo editoriale italiano, e appunto discendente per parte di madre invece dalla famiglia Bompiani. È una discendenza illustre, così come sono abbastanza illustri le sue frequentazioni giovanili, nato nel 1926, ha quattro anni meno di Pasolini, ed è, diciamo, un giovane non universitario, ma è un giovane liceale, quando insieme a Pasolini e ad altri, diciamo, leggermente più grandi di lui, fonda la rivista Il Setaccio, una rivista della GIL bolognese, che ospita negli stessi anni in cui, ho sentito stamattina appunto gli interventi, in cui Pasolini, appunto, il giovane Pasolini, che poi Longhi, diciamo, di cui si interessa appunto Longhi nella sua lettera, siamo quindi negli anni già della guerra, ma nella fase ancora, diciamo, in cui, appunto, la cultura sembra, appunto, in qualche modo ancora poter godere di una, sia pur ristretta, sfera di autonomia. L'amicizia con Pasolini tornerà più tardi, ne parliamo poi alla fine, diciamo, verso la fine del mio intervento. Nulla faceva intendere o presagire una svolta politica nella traiettoria di Fabio Mauro. In realtà, il suo lavoro si muove fino, diciamo, al 68 circa, in una intelligente, ma assolutamente non esplicitamente politica, revisione o rivisitazione di alcuni dei luoghi fondamentali, diciamo, della cultura visiva contemporanea, tra New Data e Pop Art, grossomodo. Uno dei suoi interessi ricorrenti, che poi, tra l'altro, tornerà anche nella seconda fase della sua carriera, è quello legato all'immaginario del cinema, dello schermo cinematografico come oggetto e del cinema come creatore, diciamo, di immaginario, come agente di immaginario. Intorno al 68 si conclude questa prima fase del suo percorso artistico, ci sono due o tre anni di silenzio, diciamo, di esposizioni, e poi un po' dal nulla questo oggetto. Ecco, già definirlo una performance in realtà è problematico, perché in realtà si tratta di un'azione teatrale, vera e propria. Gli interpreti sono degli studenti dell'Accademia d'Arte Drammatica d'Amico di Roma, dove Mauri aveva un corso di estetica, insomma, era uno dei docenti, un docente a contratto, diciamo, lo potremmo definire, e che vengono coinvolti in una operazione che ha probabilmente anche come movente, e sicuramente, diciamo, come movente a largo spettro il momento critico che l'Italia attraversa tra la strage, all'indomani della strage di Piazza Fontana, le trame nere, gli attentati e così via, in termini stringenti, lo stesso Mauri lo ha più spesso ricordato nelle sue interviste, nelle sue dichiarazioni, il golpe borghese, il tentato golpe dell'Immacolata, che appunto avviene, cioè il mancato golpe che appunto viene, come dire, non compiuto ma tentato la notte dell'8 dicembre, tra il 7 e l'8 dicembre del 1970. Pochi mesi dopo, questa azione viene appunto inscenata, all'interno di questi studi cinematografici, con un pubblico di invitati. La presenza del pubblico è una presenza, diciamo, organizzata, le tribune hanno delle denominazioni e i partecipanti a questo evento sono invitate ad accomodarsi in quelle che corrispondono, diciamo, grossomodo alle professioni, un po' come appunto le cerimonie dei ludi juveniles, che è il modello di quella che poi è l'azione che viene organizzata appunto da Mauri, erano divise secondo le classiche divisioni corporative della società fascista. Qui c'è una tribuna speciale, quella che avete sicuramente visto, con la stella di Davide, è la tribuna degli ebrei, che ovviamente non c'era nel modello di questa manifestazione, che è uno dei ludi juveniles regionale, quello di Boboli, questo diciamo lo dice Mauri sostanzialmente, è un elemento che lui ha raccontato anche qui in varie interviste, a cui lui aveva presenziato appunto nel giugno del 1942, se non vado errato, in cui l'elemento, diciamo, di interesse, non solo sono presenti i ragazzi giovani della GIL italiana, ma anche quelli della Hitlerjugend, che gemellati con la gioventù italiana del Littorio, hanno celebrato questa edizione, non è l'unica volta che questo è accaduto, ma l'edizione, diciamo, del mio 142 è quella a cui Mauri prende parte, un Mauri quindi che all'epoca ha 16 anni sostanzialmente, quindi ancora, diciamo, in età pre-universitaria. La messa in scena è stata accompagnata da un interessante testo di Mauri, un volantino che era stato distribuito al pubblico, in cui Mauri descrive la sua azione. Ve ne leggo qualche passo che poi commenteremo assieme. Innanzitutto, dice Mauri, descrivendo appunto la sua azione, chi indossa la divisa scelta entra in un campo di relazioni, diventa lo spettacolo, chi ripete a suo modo un testo idem. In effetti, voi non sentite l'audio, perché questo è un film, diciamo, un filmato muto, ma nel corso dell'azione vengono diffuse alcune musiche di cui abbiamo qui un puntiglioso elenco, inno a Roma, giovinezza, battaglioni M, l'inno della decima mass, fischia il sasso, inno fascista e così via. E queste, diciamo, sono diffusioni sonore. Mentre uno speaker, che forse voi avete intravisto al microfono nella tribuna d'onore, legge passi scelti da una squisita selezione di testi fascisti, tra cui caratteri fisici e spirituali della razza italiana, inchiesta sulla razza, il popolo nel fascismo, i progressi dell'agricoltura italiana nel regime fascista, politica marinare, impero fascista e così via. Una serie di testi che vengono, diciamo, declamati durante l'azione stessa. Dunque, dicevamo, Mauri appunto parla dell'azione nei due aspetti, diciamo, l'azione vera e propria, quindi l'elemento visivo e performativo, e invece poi la parola, appunto, il discorso che viene pronunciato. Chi assiste al gesto, leggo Mauri, ricopre un ruolo assegnatoli dalle tribune in cui viene collocato. Diventa spettacolo a sua volta, senza che si renda necessaria una volontà di partecipazione. Cioè, l'azione va intesa in una forma, diciamo, complessiva. Noi assistiamo, noi spettatori terzi, diciamo, a un'azione in cui il pubblico è parte dell'evento drammatico. Questo, naturalmente, non è nulla di nuovo rispetto alle strategie di coinvolgimento del pubblico che sono tipiche del teatro d'avanguardia degli anni Sessanta, del living theater, e non solo, ma sicuramente Mauri, che è un spettatore di teatro e di musica e di lirica molto assiduo, conosce molto bene anche quelle che sono, appunto, le strategie di smobilitazione del teatro borghese, diciamo che sono tipicamente quelle in cui il pubblico, appunto, viene coinvolto. Grotoschi, per esempio, in quegli anni, no? Viene in Italia. E il suo lavoro, appunto, addirittura, nella forma del teatro, no? Che viene manipolato in modo che il pubblico si trovi al centro della scena, anziché alla sua periferia, e venga addirittura poi coinvolto come elemento, come coro, in qualche modo, mutuo dell'azione. In che cosa è il fascismo? Non si aspira a una forma ideale. La casualità e le imperfezioni forniscono alla trama ideologica il concreto dell'umano e dell'attuale. Questo è un riferimento alle particolari istruzioni di regia, chiamiamole così, che vengono impartite ai giovani studenti dell'Accademia. Non si tratta di recitare, diciamo così, dei ruoli prefissati, ma piuttosto di costruire una sorta di reazione individuale a un set di istruzioni fisiche, ginniche o comportamentali che vengono date in modo totalmente indifferente, diciamo, e meccanico. L'idea è interessante, in effetti cogliamo ovviamente una lontana eco brechtiana e ovviamente l'attore deve essere in grado di mettere una distanza tra sé e il proprio personaggio, ma è anche vero che, come appunto nel Teatro Povero di Grotoschi e in una tradizione altrettanto ricca, novecentesca, da Edward Gordon Craig, per esempio, l'attore è marionetta della sua parte, si fa dunque il suo corpo, in qualche modo diventa, si anima di una volontà estranea che è quella appunto che gli impone l'abito, la divisa appunto perfettamente realizzata appunto secondo il modello dell'epoca e il gesto. Un tipo di teatro sperimentale, e questo è l'altro elemento interessante, iniziato nel Seicento, può fornire un'indicazione pratica di questo evento, alludo agli esercizi spirituali. Per nutrire l'orore dell'inferno ci si concentra sui suoi mali, sperimentando fisicamente qualche attimo, per qualche attimo, l'ustione del fuoco. Il riferimento qui è ovviamente agli esercizi spirituali di Ignazio di Loyola e in effetti abbastanza straordinaria e non sempre, come dire, studiata adeguatamente, metodica, che Ignazio inventa per i novizi dell'ordine. Voi conoscete certamente la chiesa di Santo Stefano Rotondo a Roma, che è stata, diciamo, restaurata e poi decorata appunto dall'ordine gesuita per farne la sede appunto del noviziato, o uno dei noviziati dell'ordine, sulle pareti della quale, anzi, negli intercolumni tamponati, la chiesa non aveva, diciamo, pareti esterne, vengono dipinte scene di martirio particolarmente truculente, squartamenti, insomma, il classico repertorio, se volete, appunto, del martirio controriformista, cattolico. Queste immagini, lungi dall'essere soltanto appunto immagini horrifiche, dovevano in realtà produrre una forma di immedesimazione violentemente emotiva, primaria, diciamo così, che rendeva in grado il novizio di reimmaginare, dunque di rivivere in qualche modo e quindi in questo senso l'elemento dell'immaginazione, quindi l'elemento visivo ed emotivo come elemento pedagogico è di una straordinaria importanza, come potete capire, per la storia dell'arte, ma questo, diciamo, ovviamente è un elemento noto e indagato, ma la cosa interessante è che l'unione di una tecnica tipicamente novecentesca, diciamo, quella che deriva grossomodo appunto dalla linea del teatro del teatro di Craig e poi anche degli esperimenti grotoschiani e dal teatro brettano si fonda in fondo a una tecnica anch'essa, non più stavolta teatrale, ma piuttosto di creazione di identità come è il caso appunto dei gesuiti che sono letteralmente al loro modo degli homines novi da questo punto di vista anche se, diciamo, il termine non si adatta molto bene chiaramente alla loro esperienza e tuttavia questo doppio elemento identificazione e disidentificazione distanza e prossimità ruolo storico quindi riviviscenza di una storia che non appartiene naturalmente non certamente ai ragazzi ventenni che svolgono l'azione forse anzi quasi sicuramente a molti partecipanti nel pubblico fa di questo di che cosa il fascismo un oggetto estremamente affascinante anche perché non vi sembrerà diciamo strano ma mai in Italia e credo nel mondo occidentale prima di questa data si è mai prodotto qualcosa del genere cioè in qualche misura come sappiamo dalla storiografia sul fascismo fino a questi anni l'elemento diciamo così corporeo l'accento sulla fisicità e sulla modifica proprio direi proprio della gestualità di base e delle reazioni fisiche eccetera non era ancora stato fatto oggetto di studio in maniera sistematica e soprattutto non si era ancora probabilmente prodotto all'interno degli studi sul fascismo quella saldatura che Maddalena Carli prima faceva molto vedere tra invisivo immaginario e politico e diciamo in termine più in qualche modo i due campi è evidente ci sono testi diciamo sull'arte fascista o sull'arte totalitaria che escono appunto in questi primi anni settanta ma i due campi non sono stati ancora come dire visti all'interno di una medesima prospettiva come anche l'intervento che appunto mostrava come l'elemento il montaggio visivo era parte integrante del messaggio ideologico nelle pagine delle riviste del Guff ora penso ne abbiate avuto abbastanza ma dura diciamo un bel po' possiamo fare degli zoom anche senza mettendo via il video per il momento possiamo invece fare esaminare un po' fotografie un secondo soltanto che tutto questo non è istantaneo purtroppo fotografie che si riferiscono a questa e a un gruppo di opere che Mauri produce tra il 1971 circa e il 1978 sono questi gli anni che in cui la sua attività diciamo il suo lavoro sulla politica e soprattutto sul totalitarismo fascista e nazista diciamo in qualche misura è più intenso e più sistematico non appena il disco rigido si decide appunto a dare segni di vita vi faccio vedere queste immagini dunque dicevamo che cosa è il fascismo di cui vedete appunto una immagine molto chiaramente si vedono gli elementi appunto le tribune dove il pubblico con la doppia tribuna con la stella di David si vedono appunto gli esercizi qui c'è qualche primo piano che vi consente anche di vedere appunto la le divise con ricami gagliardetti insegne regolamentari sullo sfondo dello spazio non vi ho detto c'è un grande schermo cinematografico bianco uno schermo su cui non viene proiettato alcunché ma che porta ricamato in caratteri strafascisti la scritta The End in congrua appunto come lingua e come provenienza ma che è un tratto che proviene dall'opera precedente di Mauri che proviene in particolare appunto dalla sua produzione di schermi questo per esempio non si vede bene ma c'è una scritta The End al centro al centro della non so se riusciamo a ecco un ingrandimento diciamo è estremo qui per cui è molto sgranata però vedete c'è una silhouette diciamo quanto meno vedete qui il rapporto schermo quadro il quadro come schermo di proiezione questa è una idea che proviene ovviamente dalla grande arte internazionale soprattutto dall'arte diciamo che dalla metà degli anni 50 comincia a interrogarsi sulla natura concettuale dell'opera d'arte quindi Jasper Jones e esperienze vicine qui siamo appunto nel momento in cui Mauri che non è mai stato un pittore stricto sensu non è mai stato un disegnatore un pittore ma piuttosto un artista che fin dalle origini ha lavorato con materiali assemblati con prelievi appropriazioni collage e così via oppure ancora per darvi ancora un'idea una serie fatta invece su schermi televisivi anche questi sono sono tele appunto montate una sull'altra di una serie del 62 63 in cos'è il fascismo appunto lo schermo viene visto appunto sullo sfondo con The End e sul pavimento la grande bandiera nazista su cui si muovono c'erano anche un incontro di come si chiama Kendo credo che sia diciamo la scherma di tradizione giapponese qui vedete una foto a colori è interessante questo elemento appunto del tappeto nazista perché appunto abbiamo tutta la documentazione del tempo bianco e nero e questa è l'unica foto a colori di quella particolare di quel particolare episodio qui ancora un dettaglio vedete lo schermo sullo sfondo con il palco d'onore appunto da cui vengono letti i comunicati non so se avete notato un manichino vestito con l'uniforme da generale dell'aviazione tedesco quello è l'unico tedesco diciamo che sta nel pubblico ma è un manichino appunto non è una figura vivente ed è una un reminder se volete appunto della insieme alla svastica di questo di questo incontro tra Hitler Jugend e Jill qui ci sono naturalmente gli sbandieratori eccetera questa è una foto interessante perché voi naturalmente vedete Mauri in piedi con la dolce vita bianca le mani alla vita quello seduto si riconosce diciamo facciamo il dettaglio si riconosce molto bene è naturalmente Pasolini questa foto questa è una foto scattata durante le prove e vi consente anche di vedere le tribune appunto la distribuzione strettamente controllata del pubblico all'interno di questi di queste vasche che isolavano i gruppi gli uni dagli altri questo lavoro per quanto diciamo scioccante e indubbiamente anche in qualche modo politicamente bollente vista il momento storico è un lavoro di spartiacque diciamo che in Italia si può dire che con questo lavoro di Mauri in qualche misura la relazione tra arte e politica cambia radicalmente di senso cambia cioè nel nel seguente modo noi siamo abituati diciamo a considerare appunto l'esempio di Guttuso che è stato più volte citato questa mattina in qualche modo l'arte impegnata l'arte politica come un'arte denuncia come un'arte dalla parte degli oppressi appunto Guernica il prototipo di un'arte che mostra gli effetti della violenza invece Mauri fa un'operazione che come vedete è radicalmente contraria non fa vedere gli effetti della violenza ma fa vedere la matrice della violenza cioè fa vedere in atto il processo di disumanizzazione e di ricostruzione degli individui naturalmente e qui diciamo mi riaggancio a quanto diceva Maddalena questo non è un processo reale il processo reale si è chiuso con la sconfitta del progetto fascista e se vogliamo riprendere diciamo un concetto molto importante di Alain Badiou il suo libro molto noto lo secolo il secolo voi sapete l'analisi di Badiou rovescia quella che era diciamo fino a quel momento l'interpretazione dominante il secolo il ventesimo secolo il secolo breve non è il secolo dell'ideologia non è il secolo degli immagini è il secolo della passione per il reale che cosa vuol dire che effettivamente lo si vuole cambiare quest'uomo non è uno slogan è una volontà di avere la cosa vera in qualche modo Badiou dice così come Freud aveva come dire voleva il reale dell'amore cioè il sesso voleva il reale della psiche cioè voleva quella cosa che in effetti non si poteva dire e non si può dire per definizione perché è forclusa ma che si manifesta appunto come la mancanza come il trauma come il dito che sporge diciamo da dietro dell'immagine della punta che ci punge il pungiglione della morte nella tradizione della poesia occidentale così la passione dell'ideologia è una passione per un cambiamento che implica ovviamente dentro di sé la distruzione e l'agnentamento del vecchio ordine e questo naturalmente non è più il caso nel 1971 la relazione che c'è tra questa passione per il reale e il desiderio di realismo di Mauri è estremamente interessante perché nel momento in cui Mauri chiede c'è un'intervista che non vi posso far vedere perché non c'è tempo in cui chiede ai giovani attori di identificarsi con la parte dei fascisti lui dice a un certo punto abbiamo fatto le prove e dico ai ragazzi di muoversi in maniera appunto corretta di marciare al passo di fare gli esercizi mi sono accorto dice Mauri che erano troppo veri una cosa molto interessante cioè che avevano creduto troppo alla parte ho detto no allora bisogna fare in modo che voi pensiate a voi stessi mentre fate questa cosa oggi e non come l'avreste fatta allora e quindi è da questo attrito anacronico tra due tempi ma che non sono solo due tempi storici sono due temporalità radicalmente distinte e incomunicabili tra di loro che noi diciamo che possiamo come dire tornerà tornerà giuro ecco possiamo in qualche modo cominciare a comprendere il senso dell'operazione se è possibile questo lavoro è superato in crudezza da un lavoro fatto nello stesso anno pochissimi mesi dopo che ha un titolo piuttosto esplicito ebrea domani a New York la galleria che ospita in questo momento la mostra una retrospettiva Hauser Hauser und Wirt dicono ma il nome è svizzero quindi sarebbe Hauser und Wirt che ospita la retrospettiva di Mauri metterà ancora una volta in scena con Mauri assente ovviamente metterà in scena questa performance una performance del 1971 realizzata per la prima volta alla galleria Barozzi di Venezia è un'installazione più performance nello spazio sono presenti alcuni oggetti reinventati da Mauri non sono oggetti autentici sono gli oggetti che sappiamo essere stati usati o prodotti nei campi di sterminio quindi ci sono forbici per la rasatura ci sono oggetti legati diciamo alla gestione dei corpi ma ci sono anche false saponette realizzate con come tristemente sappiamo con i corpi degli uomini e delle donne trucidate nei campi di sterminio ci sono ci sono questi oggetti ci sono queste ce n'è una lista che se volete vi posso leggere abbiamo per esempio un cavallo ecco gli oggetti sono falsi la loro esistenza è attestata nelle cronache dei sopravvissuti ai campi ecco questo è interessante questo per esempio è un cavallo di un cavallo delle SS confinimenti in pelle ebrea ci sono gli stivali alcuni oggetti realizzati dagli internati nei campi di sterminio rifatti da prè le descrizioni per esempio i veri pattini di Anna Citterich di Varsavia eseguiti da lei stessa nonché ci sono pelli da sci eseguite con Oswald e Milterron catturati a Davos e Brezinska o ancora pennelli fatti con capelli e capelli di internati saponi cera sedie paralumi di pelli ovviamente umane e diciamo l'elenco è atroce e può continuare l'elemento forse più scioccante di questa di questa performance più installazione più performance era la presenza viva della della performer come vedete con un tatuaggio sul petto nuda completamente nuda che fa quest'azione rituale va in un angolo appunto di fronte in un angolo che dove c'è uno specchio da toletta e tagliandosi i capelli con una forbice li applica sullo specchio creando una stella di David questo è uno dei appunto dei lavori direttamente diciamo legati al tema del toitarismo al tema del ruolo del corpo ce n'è un altro che è anch'esso molto noto che che è che ha un titolo che ha un doppio titolo è stata presentata la prima volta nel 1973 alla galleria 2000 di Bologna col titolo natura e cultura la modella una giovane attrice appare di fronte al pubblico completamente vestita con l'uniforme da giovane italiana uniforme che lentissimamente viene da cui lentissimamente si spoglia quindi togliendo un capo alla volta le scarpe le calze la mantella la gonne eccetera fino a rimanere completamente nuda stante di fronte al pubblico a quel punto la modella ricomincia il ciclo all'inverso e si riveste fino a tornare perfettamente abbigliata e a quel punto il ciclo ricomincia nell'altro senso si tratta di una azione che è stata ripetuta tantissime volte l'ultima delle quali forse qualcuno di voi l'ha vista alla Biennale di Venezia del 2013 nel padiglione Italia che fu curato da Bartolomeo e Pietro Marchi anche in questo caso abbiamo un testo di Mauri i testi di Mauri tra l'altro sono di per sé molto affascinanti perché sono anche delle potrei dire delle strane mescolanze di estrema franchezza ed estrema reticenza veramente sono dei testi in cui un critico letterario potrebbe esercitarsi a cogliere tutte le le rimozioni e le strane e le strane deviazioni anche del discorso ve ne leggo giusto un passo a un minimo di analisi rilevo che in natura e cultura per fascismo non intendo prevalentemente il fascismo storico né l'intenzione di promuoverne la critica è il fine essenziale di questo esercizio l'esame era avvicinato di quel tempo 1970 oggi è alle spalle in Italia attraversato da una fitta trama di analisi storiche lui scrive questo testo nel 77 quindi non sono passati così tanti anni però sono gli anni in cui appunto avviene questa storicizzazione del corpo fascista diciamo così io intendo il fenomeno già giudicato da una democrazia colta ma l'emblema che la modella indifisa compone resta un'apparenza significante luce di una teoria negativa o astrusa di quasi vietata esplorazione per come priva di identità reale forte della sua per cui per come priva di identità reale forte della sua presenza di fatto le qualità formali del rito di un corpo in costume mantiene il minimo di significato storico voglio dire è un massimo di estensione simbolica eccetera eccetera si tratta in qualche modo anche se volete di un tentativo di giustificare questo mi sembra molto interessante di giustificare in qualche misura la violenza visiva di questi lavori il loro aspetto evidentemente guaglieristico questo elemento di spettacolo di spettacolo atroce o di spettacolo ambiguamente seduttivo in fondo qui c'è una conflazione come si dice di due elementi che sono molto cari agli storici dell'arte dall'altro da un lato questa è una statua cioè realmente c'è addirittura c'è il basamento c'è un plinto bianco questa è una statua che si anima è il mito di pigmalione nel quadro di Jerome che forse ricorderete in questo quadrone ottocentesco in cui la la statua si anima e naturalmente la prima cosa che fa è abbracciare ancora a mezza di marmo il pittore se volete ve lo faccio vedere perché ho la riproduzione da qualche parte si combina con quindi con invece il tema antropologico levi-strossiano della relazione tra natura e cultura tra crudo e cotto si potrebbe dire appunto tra vestito e pelle ma i termini di questa opposizione e i termini storici diciamo della opposizione specifica all'interno del fascismo questa è una giovane italiana non sono chiari cioè non è evidente che la natura sia in questo caso l'elemento di cui l'uniforme fascista perverte il significato non è chiara qual è la relazione giustamente tra l'essere naturali che cosa vorrà mai dire se non appunto un altro costrutto culturale che andrebbe poi ovviamente precisato identificato e l'essere scusate naturali ho detto sì e l'essere culturali come appunto rivestiti di una sorta di carapace di corazza desensibilizzante questi sono termini che nell'opera rimangono ambigui cioè la cosa interessante del lavoro di Mauri credo che non sia stata mai colta con chiarezza almeno diciamo nella letteratura esistente è che c'è effettivamente un grado di ambiguità pur evidentemente nella chiara o esplicita diciamo declinazione antifascista c'è una vena di ambiguità una vena di ambiguità che è realmente il motivo per cui noi ci interessiamo a questi lavori una vena di ambiguità che possiamo dirlo senza diciamo troppi problemi in questo caso lui condivide con il suo compagno di strada Pierpaolo Pasolini sappiamo bene che il Pasolini dei primi dei primi settanta fino alla morte è l'uomo impegnato a rivedere profondamente il suo giudizio un giudizio storico sulla vicenda italiana sono gli anni appunto degli scritti corsari e del celeberrimissimo articolo sulle lucciole e scritti di questo genere ma soprattutto sono gli anni che conducono attraverso una serie di scritti di interventi polemici ma soprattutto di sceneggiature letture e diciamo opere a Salò Salò in qualche modo è l'elemento che tragicamente conclude la traiettoria creativa di Pasolini ma è in qualche modo la cosa che sta sullo sfondo dell'opera di Mauri cos'è che hanno in comune Mauri e Pasolini innanzitutto vi voglio far vedere qualcosa che forse non conoscete vi voglio far vedere una performance questa volta questa sì è una performance realizzata direttamente tra Pasolini e Mauri dunque siamo nel 1975 siamo nel maggio del 75 inaugura la nuova galleria arte moderna di Bologna quella che adesso è stata ritrasformata o retrotrasformata in palazzo di congressi o qualcosa del genere in zona fiera che veniva appena inaugurata con questa architettura brutalista che conoscete sulla all'inaugurazione Mauri viene invitato appunto a realizzare un lavoro lui non entra nel museo si ferma sulla scala diciamo all'esterno del museo su una seggiola una sorta di sgabbello tiene Pasolini fronteggia dunque il pubblico che si trova all'aperto in basso e sulla camicia bianca sul petto di Pasolini viene proiettato il Vangelo secondo Matteo il film pasoliniano e questo Vangelo secondo Matteo accompagnato dalla colonna sonora ad altissimo volume con Pasolini che sta fermo per tutta la durata del film facendosi proiettare tutto il film sul petto non è la prima volta che Mauri fa questo l'aveva fatto l'anno prima con Miklos Yangtso il regista ungherese che si fa proiettare sul petto non mi ricordo mai Sorgo Rosso il suo film storico più importante diciamo di quel periodo ed è una tattica che viene usata diciamo in altri in altri momenti della della carriera di Mauri usando modelle o modelli su cui lui proietta spezzoni di film quindi diciamo non c'è niente di estremamente nuovo dal punto di vista del meccanismo ciò che è estremamente interessante qui è la relazione appunto tra corpo del creatore corpo dell'artista e immagine come potete cogliere ovviamente la madre di Pasolini che è la madre della passione ovviamente c'è questa forte identificazione la cosa straordinaria è secondo me che in maniera anche qui estremamente ambigua perché è vero tutta la critica ha sempre notato questo fatto il creatore come dice lo stesso Mauri del resto in un suo scritto è integralmente responsabile della sua opera in qualche modo la sua responsabilità appunto per questo si chiama intellettuale l'opera è quella della responsabilità esistenziale integrale in qualche misura ma è anche vero che questo rapporto è in realtà ancora una volta un rapporto di esibizione è un rapporto di spettacolo cioè c'è un elemento che si infiltra che è quello rimosso dalla scena ideologica cioè che è l'elemento della società di massa che è già come dire ben 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 strutturata intorno intorno a questi fatti ora io non ho più tempo però vorrei giustamente soltanto finire diciamo leggendo oi me un paio di di pagine di appunti che riassumono sì sono e purtroppo sì capisco la necessità diciamo vi leggo un po' la conclusione di questa di questa di questa storia dicendo questo il fascismo non rappresentava per Mauri un fatto del passato ma una potenzialità scusate una possibilità una potenza anzi sempre attuale riattivare attraverso i corpi dei performer non solo l'immagine l'uniforme ma precisamente il potere di fascinazione del fascismo storico il saggio di Susan Sontag Fascinating Fascism o Fascino Fascista è pubblicato nei primissimi anni settanta come sapete è uno dei saggi diciamo più celebri di quella fase della produzione della critica americana saggio dedicato a Leni Riefenstahl e appunto agli strumenti del fascino fascista ma precisamente il potere di fascinazione del fascismo storico la sua fisicità e al termine di un affuscamento morale l'anestesia che esso era capace di indurre e tutto questo di fronte a un pubblico a sua volta investito non solo del ruolo di testimone ma di quello assai più scomodo di guagliere e complice forse sarà Pierpaolo Pasolini nel suo salò o le 120 giornate di Sodoma nel 1975 a spingere questa modalità verso esiti ancora più radicali trasportando e qui possiamo vedere delle immagini visto che comunque di questo parliamo e vi faccio vedere apposta le immagini più scioccanti diciamo del film perché normalmente sono queste le immagini che vengono fatte vedere in una forma di sostanziale rimozione invece degli aspetti degli aspetti tremendi diciamo di questo film sadianamente e battaglianamente osceni quindi con la doppice valenza dell'oscenità come spettacolo che non si può sostenere e come esperienza irresistibile questa sempre duplice questa dialettica nell'immobilità appunto una dialettica che sta dentro lo stesso che non si rispecchia appunto egaglianamente ma che piuttosto appare connaturata ai corpi all'esistenza ai destini trasportando la narrazione sadiana nel buio inverno della Repubblica di Salò e dando forma tragica disturbante ed esemplare all'associazione tra sadismo e fascismo una rilettura quella di Pasolini che rovescia la prospettiva sadiana collocando necessariamente lo spettatore nella prospettiva della vittima se la violenza è immuta se come dice Deleuze il potere è costitutivamente autoassolutorio solo il punto di vista del socconvente è paradossalmente capace di testimoniare ciò che si presenta come pura inversione e negazione anarchica il freddo il crudele altro testo determinante per la rilettura appunto anche del nesso tra politica e sad il tema del film diventa così la nuda vita esposta a una tirannia che pretende il possesso dei corpi per poterli annullare e pratica il rovesciamento osceno di ogni valore o credenza in una feroce scatologia nichilista il dominio della merda e della morte nella visione dell'ultimo Pasolini equivale tuttavia allo sgretolarsi di ogni ideologia dal razionalismo perverso di sad al fascismo stretto stesso sotto la spinta dell'unica ideologia concepibile nel mondo tardomoderno ovvero quella del consumo e del suo carattere insieme stupido ed elettrizzante l'atto finale del film in un crescendo insensato sarà così necessariamente ancora una volta uno spettacolo un'atroce mattanza da contemplare a distanza attraverso un canocchiale una esplicita allusione al ruolo insieme disvelatore e voyeristico del film stesso e della ambivalente complicità di noi spettatori in un film come Salò non c'è dato però di godere perché la distanza tra spettatore e schermo e qui torna il discorso di Mauri come avete visto nonostante le numerose scene di godimento del film permane anzi risulta intensificata Cesare Musatti ricorda l'esperiente tecnico del finale del film come un tentativo di sottrarsi alla identificazione alla prossimità la morte la mattanza finale la distruzione finale dei corpi peraltro desiderati dei ragazzi e delle ragazze può avvenire soltanto se osservata a distanza e naturalmente questo può avvenire perché lo spettatore tollera emotivamente al cinema ciò che non tollererebbe tollererebbe nella realtà nella realtà al cinema è possibile appunto prendere le distanze rompere la distanza tra spettatore e schermo equivale in un certo senso a riempire un vuoto aggiungere qualcosa mettere un di più e sarò brevissimo sto tagliando ancora un istante vabbè qui diciamo non mi posso dilungare ma bisognerebbe appunto analizzare come appunto il reale diciamo lacanianamente inteso ritorni appunto nella forma nella forma di un'assenza fondamentalmente di una rimozione di un ellissi tanto in Mauri che in Pasolini concluderei dicendo questo per entrambi Mauri e Pasolini il problema si poneva a questo modo come riconvocare la sostanza ambivalente del fascismo il suo potere di fascinazione e mobilitazione la sua seduttività elementare al di là dell'orizzonte storico aperto della sua sconfitta e come valutare questa sconfitta alla luce dell'affermazione del capitalismo e del consumismo della sua economia dell'incanto della sua mitologia per Mauri e Pasolini in modi diversi si riaffacciava così la questione di più lungo momento del significato profondo della modernità del suo essessi posta in Italia per lo meno dal futurismo in avanti come un tentativo eretico rispetto ai modelli dominanti il tentativo di legare insieme identità e rivoluzione tensione verso il futuro e culto di una eredità avvertita non tanto come un legame ma come un corpo da amare un corpo vivo grazie 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 Stefano Chiodi e adesso pausa pranzo affrettata per dire così perché bisogna andare in mensa in tempo utile per cui poi ci rivediamo qui alle 14.30 con qualche minuto no no me no 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 Grazie a tutti. 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 sulle arti sulle arti sui, sulle arti, sulle arti, sulle arti visibili. Allora, buon pomeriggio a tutti. Il mio intervento, come avevo anticipato da Vanessa, riguarda uno degli aspetti inerenti appunto alla rivista Il Campano. Diciamo, scendiamo un po' più nel particolare, dopo aver sentito appunto il professor Nello parlare in generale della storia appunto della rivista e Vanessa si è concentrata diciamo sull'aspetto delle arti figurative, io mi concentrò appunto sul cinema e diciamo cercando di capire se effettivamente, come è stato ricordato, scusate, anche prima dal professor Nello, si possa da una rivista come Il Campano che per anni, specialmente dal punto di vista cinematografico, è stata ritenuta non all'altezza di altre riviste, stamattina si è citato per esempio Il 21 di Venezia, che dal punto di vista della critica cinematografica ha segnato comunque una fase molto importante, specialmente con gli interventi di Francesco Pasinetti. E cercherò insomma di capire se, prendendo in analisi, non tutti, anche se in realtà non è che sono tantissimi, gli articoli sul cinema presenti appunto nella rivista Gufina Pisana, si può cercare insomma di tracciare un percorso che appunto dal 1934, quando escono i primi articoli, ci possa portare poi, come vedremo, diciamo nell'anticamera del neorealismo cinematografico. Prima di tutto parto dall'immagine che ho scelto, che è un'immagine abbastanza famosa, che è questo slogan appunto per l'inaugurazione di Cinecittà, e parto da qui ricollegandomi a un discorso che il professor Larovere faceva questa mattina, ovvero sul discorso appunto che i gufini insomma chiedevano molto spesso appunto al regime di essere, cioè di vedere realizzate alcune cose che erano solamente, almeno per un certo periodo, solamente teoriche, e il cinema è proprio una di queste. Brevemente, insomma faccio una breve introduzione al problema del cinema all'interno dei guf e delle università. Di fatto, diciamo, il primo teorizzatore di un cinema legato, non dico all'università, però più legato forse al Cineclub, ma che poi darà il là appunto alla nascita delle sezioni cinematografiche dei guf, è sicuramente Francesco Pasinetti, che nel marzo del 1932, sulla rivista Il 21, propone che in ogni città d'Italia sorga un Cineclub. Pasinetti è una figura molto importante perché non solo collabora al 21, di cui è anche fondatore e direttore, occupandosi della pagina di cinema, ma soprattutto è, come dice lui stesso, il primo a proporre, almeno in Italia, ma forse lui dice anche nel mondo, insomma questo sinceramente non so se sia vero o meno, la prima tesi con soggetto appunto il cinema nel 1933 presso l'Università di Padova. Quest'idea di Pasinetti e questo legame appunto fra il Cineclub e l'Università troveranno poi, diciamo, una realizzazione nel momento in cui, nel 1934, diciamo, su proposta di Galeazzo Ciano, Luigi Freddi viene messo a capo della neonata Direzione Generale della Cinematografia, che ha appunto il compito di organizzare quello che rimane, diciamo, del cinema italiano, che, come sapete, insomma, il cinema italiano negli anni venti ha una profonda crisi, sia a carattere, diciamo, estetico che narrativo, e con l'avvento del fascismo, specialmente negli anni trenta, e in modo particolare anche proprio dalle riviste gufine, c'è un po' questa volontà di spronare appunto il regime perché intervenga in maniera anche decisa per produrre un cinema propriamente fascista, come appunto scrive nel 1933 lo stesso Pasinetti. Per quanto riguarda, e andiamo così almeno a riflettere subito sul Campano, Per quanto riguarda l'attività del Campano e del Cineguffo Pisano, il Cineguffo a Pisa sorge nel 1935, e qui ho messo una lista di coloro, insomma, che sono i fiduciari del Cineguffo, ovvero coloro che erano a capo dell'organizzazione di questo ente. Il primo è Francesco Tropeano, che è uno studente di filosofia, che tiene la carica dal 1935 al 1939. Sappiamo che era molto interessato, più che altro, agli aspetti teorici, più che agli aspetti pratici, anche se poi, vedremo, collaborerà anche come operatore per alcune pellicole a passo ridotto, quindi a 16 mm. Il secondo, invece, è Giuseppe Masini, che assume l'incarico dal 1938 al 1939. È in questo periodo che ci sono i primi esperimenti cinematografici. Li cito solamente perché poi chi verrà dopo di me parlerà in maniera, diciamo, più sostanziosa della produzione, diciamo, dal 1941. I film sono prodotti, diciamo, in questi primi anni, che sono proprio film molto sperimentali. La prima Cinepresenza di 16 mm viene subito comprata grazie all'intervento della Direzione Generale della Cinematografia, e vengono prodotti questi film. Cronaca, nel 1936, diretto da Angelo Gianni, che è girato a Via Reggio e oggi è perduto. Quinto Piano, di Giuseppe Masini, che è uno dei film, diciamo, più importanti, perché innanzitutto, in realtà, non è ben chiaro se si tratta semplicemente di un provino per un film o di parti di un vero e proprio film che è stato girato. Però è interessante, più che altro, perché da questo film inizia, e tutto sommato posso dire anche che finisce, una collaborazione con alcune maestranze, alcuni giovani pisani, che lavorano, diciamo così, neonati, nella neonata città del cinema di Pisorno, ovvero che si trova a Tirrenia, fra Pisa e Livorno, che era nata, se non sbaglio, nel 1935. E appunto a questo film, di cui, se non sbaglio, archivio benvenuti, conserva ancora qualche immagini, penso che si possa notare molto bene anche una certa competenza tecnica proprio inerente a un discorso fotografico delle luci e anche delle riprese. Gli ultimi due film sono, invece, Tinerio di Pisa, il 1939, di Giuseppe Masini e Francesco Tropeano, che tra l'altro parteciperà anche a un concorso documentario di Como, e poi L'uomo fosse del Monte Circeo, del 1939, di Giuseppe Masini e Ezio Ton Giorgi. Questo particolarmente importante, ne rimangono anche di questo, se non sbaglio, alcune immagini in archivio benvenuti, perché riguarda un evento, diciamo, di cronaca del tempo molto importante, quindi il trovamento, appunto, di alcuni fossili nel Monte Circeo, di cui poi c'è anche un documentario del Luce, per chi fosse curioso sul sito del Luce, appunto, è possibile vedere molto materiale che è stato digitalizzato. Chiudo qui il discorso degli esperimenti cinematografici, perché mi preme, più che altro anche per il titolo, diciamo, del mio intervento, concentrarmi sul discorso, appunto, del rapporto della rivista stessa e del cinema. Finisco con il discorso dei fiduciari, perché dopo Giuseppe Masini abbiamo Paolo Angeli, che però in realtà non terrà mai il ruolo, per il semplice fatto che entrà in età militare e partirà, appunto, per il militare. E nel 1941, poi, dopo un anno praticamente quasi di abbandono, poi Michela Paparoni ci racconterà, arriva, appunto, Mario Benvenuti, ma di questo poi vedrete, diciamo, successivamente gli sviluppi nel prossimo intervento. Allora, per quanto riguarda gli articoli sul cinema presenti nel Campano, mi scuso, chiaramente questa presentazione, cercare di non essere troppo pedante, vi farò vedere, vi mostrerò, insomma, alcune frasi che io reputo significative per un percorso che ho cercato di tracciare proprio all'interno della rivista. E qui ho voluto, diciamo, semplificare alcuni punti su cui svolgo, diciamo, il mio intervento. Perché ho diviso, diciamo, l'intervento e il Campano non tanto in annate quanto, diciamo, in tematiche. Perché nel 1934, quindi un anno prima che viene fondato il CineGoof Pisano, gli articoli, come vedremo, saranno concentrati, che poi sostanzialmente sono due, su un interesse verso la rinascita del cinema italiano. Chiaramente sono articoli, potremmo dire, quasi, non dico su commissione, però penso che riguardino molto la mobilitazione culturale dei giovani appassionati di cinema, che nel momento in cui viene istituita la Direzione Generale della Cinematografia, hanno, sperano, diciamo, in una rivalutazione del cinema italiano, nella possibilità che il cinema italiano possa arrivare a degli standard qualitativi di un certo livello. Nel 1935, poi, ci sarà un cambio di rotta, perché ci si concentrerà più che altro su interventi a carattere teorico. Sono gli anni, diciamo, in cui cominciano le pubblicazioni di alcuni libri abbastanza importanti, di cui poi vedremo, e soprattutto ci sarà l'intervento decisivo di un critico importante come Umberto Barbaro. Nel 1937 si passerà poi a un altro interesse, ovvero il rapporto fra cinema e politica, nel momento in cui, come appunto, ripeto, vedremo, la Direzione Generale della Cinematografia tenterà, in maniera, diciamo, più sostanziosa, di produrre dei film, non so se dire proprio di propaganda, però certamente più legati al periodo. E poi, l'ultima parte, invece, vedremo come la rivista risente e riflette poi alcune problematiche che, dal cinema, o dal teorico cinema fascista, o di regime, forse è meglio dire, ci porterà verso, appunto, il neorealismo cinematografico. Allora, i primi articoli che vengono pubblicati, come ho detto, sul Campano, sono del 1934, ovvero un anno prima che venga istituito il CineGoof a Pisa. Gli articoli non sono firmati, ovvero, sono firmati, diciamo, da acronimi. Il primo è firmato AVM, che, sinceramente, non siamo riusciti, non sono riuscito a capire chi fosse, in realtà, colui che scriveva. mentre il secondo porta la firma, appunto, GL, e in questo caso, diciamo, il cerchio si stringe perché i due studenti che erano all'interno della rivista, che avevano come iniziali queste due lettere, erano Giovanni Lugo o Giuseppe Longo. Anche se alcuni studi, tra cui ricordo, quello della Mancini, su un libro edito, appunto, se non ero da ITS, curato dal professor Lorenzo Cuccu, Il cinema nelle città, Pisa e Livorno, lei, appunto, riferisce che sia Giuseppe Longo, in altre circostanze, invece, si legge il nome di Giovanni Lugo. Quindi, sinceramente, anche in questo caso, non so chi sia dei due. Per quanto riguarda questi due articoli, i temi principali, come ho detto prima, sono sostanzialmente due. Innanzitutto, c'è un riferimento alla Direzione Generale della Cinematografia, che nasce, appunto, nel 1934, su iniziativa di Ciano, e a cui capo viene messo Luigi Fredi. Luigi Fredi non è un uomo di cinema, è un giornalista, lavora per molto tempo in Sud America, Rio de Janeiro, compie un viaggio a Hollywood, ed è per questo motivo che, al suo rientro in Italia, probabilmente, proprio grazie all'intervento di Ciano, ha un incontro con Mussolini, che, insomma, gli chiede, come lui stesso scrive, di proporre un progetto per risanare il cinema italiano. Da qui, naturalmente, nel momento in cui viene istituita la Direzione Generale della Cinematografia, cominciano sulle riviste gufine diversi interventi, che pubblicizzano questo evento. Ricordo che anche nel 1934, sulla rivista Il 21, se non sbaglio, Biadene, scrive un articolo molto elogiativo, a priori, perché ancora la Direzione Generale della Cinematografia non ha comunque cominciato il suo lavoro, e lo stesso avviene, appunto, nelle pagine del Campano. Il passo che ho voluto qui evidenziare è, appunto, tratto da questo articolo cinematografo del 1934, in cui credo che, in un certo qual modo, si riprenda il discorso di Pasinetti del 1932. Lui parlava, appunto, della nascita dei cineclub, proponeva, appunto, la nascita dei cineclub in modo tale da poter permettere ai giovani, ma non solo ai giovani, di poter vedere i vecchi film, e di poter anche costruirsi una carriera, di potersi, appunto, costruire una cultura cinematografica. In questo caso, nel Campano, viene attuato, diciamo, un passo ulteriore. Perché? Perché Giovanni Lugo, o Giuseppe Longo, scrive, a tal fine, sottinteso la rinascita del cinema italiano, bisogna indubbiamente svecchiare molto, ma è altrettanto indubbio che per svecchiare occorre formare le forze nuove, le forze giovani. Un campo fertilissimo è certamente quello dei gruppi universitari fascisti. È un campo che bisogna coltivare intensamente, ma anche estensivamente. È chiaro che in questo caso, quando ancora, diciamo, non c'è stata una vera presa di posizione per quanto riguarda i gruppi universitari fascisti a parte della Direzione Generale della Cinematografia, alcuni universitari cominciano a chiedere a gran voce che, diciamo, il rinnovamento passi anche da loro. Pasinetti del 32 scrive, forse nel primo numero del 21, ma non sono sicuro, un intervento in cui dice che la sua generazione non aveva contribuito ancora niente per il proprio paese e quindi avrebbero voluto contribuire. E in questo caso, per quanto riguarda il cinema, appunto, c'è questa volontà di essere parte di un progetto che, almeno, diciamo, all'inizio sembra poter portare chissà a quali risultati. Dopo, diciamo, questi primi due articoli, come ho detto, viene fondata, appunto, la sezione cinematografica del Guff di Pisa e, appunto, dopo la sua fondazione cominciano a essere pubblicati all'interno del Campano scritti che si spostano più sul lato teorico. Cioè, quindi, si vuole evidenziare la specificità del cinema e, in modo particolare, si vuole evidenziare anche la sua differenza rispetto alle altre arti. In questo caso, ho voluto evidenziare due passi. il primo è un articolo di Danilo De Cocci, appunto, del 1935, che si chiama Cinema e Teatro. Nel periodo, come ben saprete, ci sono diversi diciamo, diversi dibattiti per quanto concerne appunto il rapporto fra queste due forme di spettacolo. In questo caso, ho voluto analizzare questo passo di De Cocci per il semplice fatto che, nello stesso periodo, anche un altro personaggio molto importante della cultura italiana e specialmente dal punto di vista cinematografico, attua delle riflessioni analoghe ed è Umberto Barbaro. De Cocci appunto scrive l'attore teatrale lavora su una traccia già completamente fissata dall'autore, di cui non ha che da ripetere le parole, liberamente illustrando le congesti e i movimenti. L'attore cinematografico deve incarnare nel senso più assoluto un personaggio, deve avere una grande possibilità di abbandonarsi, di annullarsi di fronte alla figura da interpretare sotto la guida del regista. Credo che sia molto importante questo scritto perché nello stesso periodo Umberto Barbaro comincia a pubblicare alcuni articoli proprio inerenti a quello che lui definisce l'atto creativo dell'attore, il quale non è chiamato a rappresentare un personaggio quanto a crearlo e che confluirà poi tra il 1938 e il 1940 in due volumi monografici di bianco e nero che avranno appunto come tema principale l'attore e a cui Barbaro contribuirà con diciamo una conclusione che cerca di portare il problema della specificità del cinema non solo inerente diciamo a un linguaggio evidente come può essere quello visivo ma anche proprio a delle componenti strutturali di creazione diciamo del soggetto filmico e del film in sé per sé. successivamente un altro diciamo intervento molto importante questo ne parlerò poi dopo è quello invece di Angelo Gianni Angelo Gianni sposta invece il problema più sul discorso diciamo del linguaggio cinematografico e soprattutto del montaggio Gianni è un forse ho sbagliato ho messo qui Gianni è autore Angelo Gianni è un laureando in lettere è autore di questa estetica universale del cinema che esce nel 1935 e appunto sul campano ritorna su questo su questo saggio scrivendo appunto un testo che è molto interessante in cui cerca di far capire in maniera secondo lui semplice poi in realtà non è tale appunto le varie distinzioni del montaggio soprattutto perché nel mese precedente lui aveva presumibilmente tenuto un corso di appunto di teoria e di pratica cinematografica presso il CineGoof Pisano lui è non solo studia a Pisa ma è anche studente del centro sperimentale a Roma e appunto ritorna con questo articolo sul problema del montaggio evidenziando soprattutto e citando poi non solo Barbaro ma in maniera particolare Pudovkin cercando diciamo di far comprendere ai giovani universitari che si stavano avvicinando in quel momento al cinema proprio diciamo come il montaggio fosse il fondamento dell'arte cinematografica e quindi di concentrarsi anche per quanto riguardava proprio la pratica diciamo su questo su questo linguaggio e questo linguaggio specifico del cinema siccome probabilmente devo anche un po' correre voglio andare direttamente al 1937 che forse è quello che più ci interessa perché nel 37 diciamo cambia un pochettino l'interesse della rivista non è più concentrata sul problema appunto della teoria ma ritorna potremmo dire diciamo sul problema della pratica perché perché il 37 è un anno molto importante nel senso che innanzitutto c'è stato appunto prima la guerra d'Etiopia e la guerra d'Etiopia ha permesso alla direzione generale della cinematografia di promuovere e realizzare alcuni film propagandistici proprio a sfondo coloniale nel 37 diciamo che abbiamo l'esempio più palese di film e quello anche più famoso ovvero Scipione l'Africano di Carmine Gallone che viene realizzato diciamo con ingenti mezzi e che nel senso avrà insomma verrà pubblicizzato molto Bianche e Nero li dedicherà un intero numero monografico addirittura pubblicando alcuni temi di bambini elementari insomma che rispondono ad alcune domande abbastanza complesse insomma sembra un pochettino anche un po' costruita forse come diciamo come numero e nel 37 appunto l'interesse del campano si sposta proprio sul rapporto fra cinema e politica un primo intervento è quello di Francesco Tropeano che nonostante il titolo il cinema e le arti visive in realtà non vuole riflettere appunto su questo rapporto quanto si vuole concentrare su quello che già in realtà poi Massimo Bontempelli nel 1929 aveva scritto sulla rivista Novecento ovvero che il cinema è un mezzo molto potente per poter diciamo come dire è un mezzo insomma di azione per le masse come ripete appunto Francesco Tropeano il quale dice questo carattere di espressione per mezzo di immagine cioè di espressione in un certo senso primitiva ma non primordiale immediata fa del cinema un mezzo potentissimo di azione appunto come detto prima fra le masse ancora continua Tropeano il nostro cinema non deve essere però lui dice non deve essere di propaganda non deve essere e non è di stato ma si afferma come vivente per lo stato creato da individui che vivono la vita della nazione e che in essa ritrovano la sublimazione delle loro qualità per questo il cinema del tempo fascista non è e non deve essere programmatico propagandistico ma dalla sua convinzione umana trae la sua forza politica e la sua portata universale sarà data dal fatto che esso non si può fermare esprimere contrasti ideologici o satire facili e chiaramente qui il riferimento è alcune commediole a cominciare forse da alcuni film di Mario Camerini e abusate ma esprimerà la realtà umana la forza in movimento della nostra nuova civiltà chiaramente il riferimento è quella imperiale l'intervento l'intervento successivo è ancora di Angelo Gianni e in questo senso è molto importante e molto indicativo perché sia il testo di Tropeano che quello di Gianni pongono il problema del cinema fascista dal punto di vista del soggetto cioè per loro il cinema fascista non è altro e come anche ritiene Pasinetti nel 32 cioè raccontare eventi che riguardano il fascismo quindi per loro sostanzialmente un film come Scipione l'africano è un film fascista in realtà questo poi non è vero nel senso che come vedremo questa questa riflessione sul cinema fascista nel 41 prenderà ancora diciamo una strada diversa Angelo Gianni invece in un altro scritto Funzione politica del cinema nel 37 scrive di questa parlando appunto di una censura positiva possiamo dire così di questa censura i due paragrafi di capitale importanza non possono e non potranno mai essere che i due seguenti primo proibizione assoluta di elaborazione per tutti quei film di cui non sia stato impostato chiaramente il tema o in cui un tema addirittura non esista secondo proibizione assoluta di elaborazione per tutti quei film il cui tema benché chiaramente formulato possa essere o nocivo alla politica dello Stato o anche in qualsiasi modo contrario alla civiltà del paese nel senso più lato ed ampio della parola quindi anche in questo caso come dicevo prima il problema è inerente appunto solamente al soggetto è chiaro che in questo scritto penso che forse Gianni critica anche un pochettino la politica di Luigi Freddi è vero che in Italia c'era una politica di censura preventiva ma è anche vero che fondamentalmente sono pochi forse si contano sui dita di una mano i film che non sono stati mai realizzati perché non sono stati diciamo non è stato riconosciuto al tema un certo tipo di importanza o magari un certo tipo di pericolosità quasi sovversiva però come dicevo prima qui diciamo siamo passati da un problema del cinema fascista legato appunto al soggetto e la creazione del soggetto ci spostiamo però quattro anni dopo nel 41 e il problema diciamo cambia sostanzialmente perché questo è un articolo di Emilio Rossini arte politica che non riguarda solamente il cinema ma riguarda tutte le forme d'arte e questo scritto chiaramente contribuisce poi a quelli che saranno gli interventi successivi sul campano perché Rossini scrive quanti sono coloro che si rendono conto che l'arte non è nel soggetto è molto facile in verità comprendere il contenuto di un'opera d'arte ma ciò non basta bisogna interpretare i puri valori estetici gli elementi formali molti dei giovani artisti o sedicenti tali si sforzano a dimostrarsi artisti fascisti col pure e semplice fatto di dipingere battaglie del grano o modellare madri con innumerevoli bambini o mettendo al mondo pellicole artisticamente indecenti ma improntate a una severa molale l'arte manipolata in tal modo non può non perdere completamente il suo valore pedagogico è chiaro a questo punto che Rossini dice quello che abbiamo scritto prima sostanzialmente non è vero il cinema fascista non può raccontare semplicemente del diciamo del camerata che va in Etiopia e diciamo riscopre la sua italianità come può essere non so nel film il grande appello di Mario Camerini in cui questo italiano che vive a Djibouti e si fa chiamare alla francese Jean Bertani riscopre poi successivamente appunto l'amor patrio ma c'è un problema che è legato appunto alla forma e denuncia sostanzialmente che il cinema fascista non esiste perché non esiste una vera e propria estetica cinematografica fascista nel 41 cominciano quindi i primi interventi però tra il 41 e il 42 inerente a alcuni film che ci portano già pur essendo ancora in epoca di regime già un pochettino lontani a quelle che erano le idee che aveva inizialmente Pasolini sì Pasolini che aveva Pasinetti e che avevano anche alcuni critici che scrivono sul campano perché escono alcune recensioni che riguardano dei film che oggi noi consideriamo appunto una sorta di ponte fra il cinema degli anni 30 e appunto quello che è poi conosciuto come il neorealismo cinematografico i film sono La nave bianca di Rossellini Piccolo mondo antico dei soldati e Fare nella nebbia di Franciolini c'è da dire che coloro che scrivono queste queste recensioni che sono Giorgio Casini Hildebrandt D'Ambrosi e Vincenzo Sarpieri non è che comprendono poi fin in fondo diciamo la portata innovativa di questi film tant'è che per esempio Casini definisce A nave bianca un film che non si capisce quale stile vuole adottare perché dice assomiglia un po' a un documentario però è anche un film di fiction quando in realtà nello stesso momento sulla rivista Bianca e Nero che è chiaramente una rivista di uno spessore diverso Antonio Pietrangeli recensisce positivamente il film dicendo sì forse non funziona proprio tutto però bisogna premiarlo proprio per il fatto di andare a fondere due stili diversi due generi diversi e di proporre una narrazione differente Piccolo Mondo Antico chiaramente è quella scuola del calligrafismo che poi si svilupperà anche se vogliamo in maniera un pochettino distante forse anche dai movimenti principali e poi fare Nella Nebbia di Franciolini che è considerato un po' il primo esempio di cinema diciamo proto-neorealista del periodo pur essendo chiaramente inserito in un contesto propriamente di regime basta vedere i due attori protagonisti che sono appunto Fosco Giacchetti protagonista di diversi film coloniali il classico diciamo sergente diciamo di ferro che non viene scalfito da niente e da nessuno e Luisa Ferida appunto che è una delle attrici principali del periodo che poi purtroppo farà anche una tragica fine chiudo chiudo veramente con l'ultimo articolo che compare sul campano ormai divenuto campano di guerra nel 1943 anche in questo caso diciamo è anonimo il recensore nel senso che si firma con una semplice lettera che è la K e ci sono semplicemente due citazioni perché K fa riferimento a tutti questi film che noi abbiamo visto prima e dice però occorre ancora uno sforzo la vita il popolo tutto il mondo italiano hanno una propria fisionomia una propria caratteristica bisogna saperla azzeccare guardandone con realismo occorre essere sereni sinceri obiettivi in poche parole bisogna fare film non fare dei film sul metro di uno stile costruito e voluto è lo stesso anno in cui a Venezia viene presentato un film come Noi vivi di Goffredo Alessandrini che su Bianchi e Nero ancora Pietrangeli dirà è un film ormai fuori tempo massimo che nel senso non riguarda più il presente il presente ci sta portando verso il realismo e diciamo non possiamo continuare a costruire dei film in questo modo e però è interessante secondo me la conclusione dell'articolo appunto di K perché K conclude l'articolo con una frase un pochettino profettica che diciamo io ho poi sfruttato su un certo punto di vista perché lui dice concludendo insomma i difetti sono ancora molti nel cinema nostro ma cominciano già confortanti ad affiorare i pregi e noi crediamo e speriamo che il messia non si farà aspettare ormai a lungo è chiaro che evidentemente di lì a poco uscirà questo film che è Ossessione appunto di Visconti che tutti chiaramente conoscerete e sostanzialmente siamo già ormai completamente fuori dal cinema di regime siamo è il film diciamo che poi porterà a tutte le riflessioni sul realismo e condurrà poi verso un'idea di cinema che porterà chiaramente con tutte le ambiguità del caso perché il neorealismo cinematografico come sapete chiaramente non può essere etichettato come una scuola quanto più una convergenza di pensieri però ci porta praticamente da tutto un percorso in cui diciamo questi giovani anche nel campano credevano una possibilità di rinnovamento del cinema sotto il regime fascista partendo dal 34 a diciamo questo cinema fascista che sfugge sempre loro di mano sia per quanto riguarda il soggetto sia per quanto riguarda lo stile quando poi uno stile sembra che prende forma siamo già completamente quasi oltre perché in realtà nel senso pur essendo il 43 diciamo siamo già proiettati comunque in un altro cinema dove qui chiaramente siamo ancora nell'anticamera però fondamentalmente diciamo è passato il tempo diciamo per il cinema di regime e si apre chiaramente una nuova pagina per il cinema italiano e con questo ho concluso grazie a tutti grazie grazie a tutti una sera allora io mi sono occupata della catalogazione del materiale audiovisivo presente nell'archivio di Mario Benvenuti questo lavoro che è stato iniziato nel 2008 fino al 2010 è stato realizzato grazie al contributo che la casa di risparmio di Pisa ha dato all'adozione del cinema dei ragazzi il lavoro all'interno dell'archivio praticamente inizialmente si è svolto nel cioè ha svolto il lavoro di catalogazione quindi di numerazione di tutto il materiale presente nel garage di Mario Benvenuti e quindi la parte che riguarda non solamente i filmati che tra poco andremo a vedere ma anche la parte che riguarda i documenti dobbiamo dire che l'archivio è composto di 285 filmati girati in parte in bianco e nero in parte a colore in 16 mm e in VHS e contando le copie si arriva a 47 ore di girato purtroppo ci sono anche però filmati girati in VTR ma per un problema di lettura di supporto non sono state digitalizzate l'archivio diciamo comprende materiale audiovisivo con i lavori che vanno dal 41 al 43 quando Mario Benvenuti era fiduciario nei Cineguff seguono poi i lavori tra il 45 e il 55 che riguardano i lavori realizzati con gli amici quindi con i fratelli taviani con Valenti Ronzini e con Mario Mancianti poi troviamo lavori realizzati dagli studenti di Mario Benvenuti perché ha ricoperto il ruolo di professore nella scuola media di materie scientifiche e poi successivamente preside e fino ad arrivare alle ultime collaborazioni nel 2003 quindi diciamo che Benvenuti ha fatto un po' se può così dire anche la storia del cinema e ha lavorato con i supporti da quelli usati nel 41 42 con per esempio la Cinekodak fino ai supporti realizzati negli anni 60 70 e fino a quelli degli anni 2000 e dobbiamo dire che questi filmati che andremo a vedere purtroppo non sono stati diciamo restaurati per un problema di budget e anche la digitalizzazione non è stata fatta in maniera diciamo perfetta però diciamo è da circa un mese che la Cineteca di Bologna ha preso le pizze insomma che si trovavano a casa di Mario Benvenuti e ha iniziato da una settimana a la fase di restauro di queste pellicole che poi successivamente verranno digitalizzate il ruolo di Mario Benvenuti all'interno del CineGuf si inserisce nel novembre del 40 quando insieme all'amico Mancianti Giovanni Salardi si iscrissero andarono a iscriversi all'università Benvenuti si iscrisse alla facoltà di chimica mentre l'amico Salardi si iscrisse alla facoltà di ingegneria e al tempo dell'iscrizione era d'obbligo per gli studenti iscriversi a una diciamo a un'attività collaterale il Salardi si iscrisse praticamente al gruppo sportivo universitario mentre Mario Benvenuti che odiava praticamente un'alternativa mi fu proposto appunto il CineGuf ricevute le chiavi della sede che si trovava in via Santa Maria diciamo al terzo piano del collegio Ricci Benvenuti trovò diciamo una serie di pellicole ammassate in un angolo dall'ultima intervista fatta a Mario Benvenuti il quale mi raccontò che dopo aver visto tutto questo materiale andò a trovare il professor Tropeano che mi raccontò che era stato lo conosceva perché aveva fatto delle supplenze al suo liceo per farsi un attimino anche spiegare come poter gestire questo materiale quindi la fase successiva fu quella di tornare alla sede del CineGuf prendere queste pellicole e capire come andavano appunto montate Benvenuti quindi come ha detto anche Diago ha ricoperto il ruolo di ultimo fiduciario e ai fiduciari insomma in quegli anni c'era la legge che i responsabili del CineGuf dovevano documentare le iniziative e le manifestazioni che venivano svolte diciamo all'interno delle varie parti d'Italia e per fare questo ricevette anche una formazione e infatti fu mandato presso l'Istituto Luce e presso il Centro Sperimentale a Roma a seguire i corsi di Cineoperatori di Ottalità dove all'interno venne a conoscenza con il cinema come possiamo dire di Zigavertov perché i professori del centro sperimentale utilizzavano specialmente i film di Zigavertov per spiegare agli studenti il montaggio Benvenuti in questi filmati doveva appunto aderire come si può dire al regime del tempo però nei suoi filmati non sempre diciamo aderisce proprio a queste cose infatti ci mette diciamo del suo ci mette il suo lato diciamo più ironico e inoltre la bravura di Benvenuti sta proprio nel suo aveva un forte ha un forte istinto cinematografico cioè lui quando prendeva si trovava a riprendere delle manifestazioni scapiva subito dove andava messa la macchina da presa e quali erano diciamo i soggetti da riprendere perché diciamo attraverso poi il montaggio in macchina doveva appunto spiegare attraverso le immagini la realtà che l'evento che stava praticamente riprendendo la bravura sta nel fatto che le pellicole al tempo non erano sonorizzate una questione appunto di costi elevati e quindi la sua bravura è stata proprio nel riprendere e appunto di descrivere anche la quotità del tempo scandita da ritmi di regime o anche dalle più anonime esistenze e nei suoi filmati ci sono diciamo filmati appunto di ufficiali ma anche filmati che riprendono studenti universitari oppure persone che passaggioni sull'Ungarni e inoltre nei filmati del del 41 specialmente in traversamento di pista a nuoto viene ripreso praticamente questa gara che veniva realizzata come tradizione il 6 di gennaio appunto dove si vedono anche i come si può dire i ponti dell'Arno prima dei bombardamenti inoltre un'altra cosa che vorrei raccontare di Benvenuti e che purtroppo questo filmato non fa parte perché è andato perso nell'archivio di Mario Benvenuti è che il 7 di agosto del 41 ci fu l'incidente al figlio di Bruno Mussolini e in quell'occasione il duce diciamo non non volle che ai funerali del figlio fossero presenti cineoperatori o fotografi bene Mario Benvenuti disobbedì a questa cosa e prese un vocabolario lo scavò e dentro ci mise praticamente la sua macchina la macchina da presa e riprese il funerale del diciamo del figlio di Bruno Mussolini ecco questo per dire appunto anche chi era Mario Benvenuti e il carattere che aveva quindi la sua passione nel riprendere la realtà che lo circondava inoltre in chiusura vorrei fare un ringraziamento a Mario perché mi ha dato l'opportunità di visionare questo materiale di grande valore e soprattutto per chi mi ha permesso di trascorre uno spaccato della mia vita accanto a un documentarista e a un intellettuale del suo spessore grazie anche al professore Ambrosini che mi ha dato questa opportunità a Mattia e anche a Bianessa grazie sì io dirò soltanto due parole sul criterio che ci ha guidato nella selezione dei filmati che potrete vedere fra poco perché naturalmente anche soltanto limitandoci al biennio 41-43 i filmati realizzati o comunque conservati da Mario Benvenuti sono davvero tanti abbiamo cercato di fare una selezione che fosse la più possibile emblematica e paradigmatica devo dire che ascoltando sin da stamani la successione degli interventi in successione credo che insomma qualche elemento di risonanza di rispondenza anche con tutta una serie di osservazioni e riflessioni che sono state fatte sarà possibile rintracciarlo nei filmati che stiamo per vedere abbiamo diviso questi materiali in tre sezioni la prima riguarda appunto la ripresa la rappresentazione di eventi di carattere ufficiale all'interno di questo campo che era abbastanza nutrito di materiali abbiamo scelto tre tre momenti tre episodi che riguardano che riguardano il discorso di Mussolini per il primo anniversario dell'entrata in guerra dell'Italia quindi un filmato del 41 un filmato invece che riguarda le celebrazioni per del ventennale della marcia su Roma con l'inaugurazione di un monumento appunto che ricorda l'evento e il contributo dei fascisti pisani all'evento e poi un funerale il funerale del federale ceccanti questo per quanto riguarda gli eventi ufficiali abbiamo poi pensato di fare una di dedicare una parte del nostro contributo ai filmati che rappresentano attività di carattere sportivo e ricreativo perché abbiamo visto che in effetti hanno come dire un ruolo piuttosto consistente e importante all'interno del corpus dei filmati dell'archivio benvenuti e vedrete da un lato c'è la rappresentazione dell'evento di cui si diceva prima cioè della gara di nuoto in Arno e subito dopo di una gara invece di canottaggio e poi come evento di carattere più genericamente ricreativo una gita a fauglia in bicicletta appunto di un gruppo di giovani fascisti e fasciste poi c'è una terza parte legata più al campo di carattere creativo di carattere artistico e qui sì ci sono materiali interessanti abbiamo dovuto selezionare anche qui scegliere qualcosa di particolarmente esemplificativo allora abbiamo puntato su alcuni filmati che sono riguardano in parte il teatro e in particolare le prove di uno spettacolo di carattere teatrale appunto poi abbiamo scelto i provini per due film che poi in realtà non furono realizzati abbiamo già nella fase di archiviazione Michela Paparoni li ha indicati come il matto il vagabondo perché appunto vedrete che hanno come oggetto appunto queste queste figure che sono molto significativi di una volontà di cinema in maniera orientata in maniera molto netta molto forte verso il cinema d'avanguardia si sentono degli si avvertono degli degli umori surrealistici comunque una ricerca anche sull'immagine che si discosta dalle dalle produzioni di genere e guarda invece al cinema d'avanguardia europeo e poi per finire quel breve film che benvenuti contribuisce a realizzare soltanto nel ruolo di operatore ma che è diretto dal suo dal suo compagno di studi Nannicini un filmato a cui faceva riferimento prima a Vanessa Martini Sinfonia di Torri e anche in questo caso in effetti si sente che i suoi autori hanno visto hanno visto un certo cinema d'avanguardia il riferimento sin dal titolo è al film di Ruthman Berlino Sinfonia di una grande città e più in generale a quel gruppo di opere che sono note sotto la definizione nell'etichetta di sinfonie di sinfonie urbane in questo senso ecco c'è allora probabilmente da distinguere due diversi e per certi versi anche opposti atteggiamenti formali estetici da parte di Benvenuti e di Nannicini perché nel caso di Nannicini abbiamo qualcuno che è non soltanto imbevuto di questa cultura cinematografica d'avanguardia ma qualcuno che vuole realizzare delle prove cinematografiche che vadano proprio in quella direzione invece Benvenuti probabilmente a una formazione un'impostazione alla quale poi resta devo dire abbastanza fedele nel corso di tutta la sua carriera quindi anche poi nell'evoluzione nel prosieguo del suo percorso cinematografico ha più un'impostazione da cineoperatore del luce ecco c'è un sguardo molto molto attento alla rappresentazione di tutti gli aspetti di di un evento ma con un atteggiamento più distaccato più neutro che si traduce proprio in scelte formali che hanno un carattere più per così dire oggettivo e neutro e sappiamo infatti anche di qualche piccolo contrasto tra Benvenuti e Nannicini al momento di girare Sinfonia di Torri naturalmente poi Benvenuti essendo in quel caso soltanto l'operatore il direttore della fotografia si piega alla volontà di Nannicini ma sono proprio due diverse concezioni del mezzo e del suo impiego ecco queste penso le cose fondamentali per orientarsi all'interno del filmato che ora passiamo a vedere sì lo vedi ma ci dovrebbe essere la possibilità di andare subito su su DVD no perché ha fatto prima mi aveva fatto vedere che si poteva subito individuare eccolo qua ci siamo alla fine magari del film grazie 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 a tutti. 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 tutti. a 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 tutti. tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. tutti. a tutti. a tutti. a tutti. tutti. a tutti. a tutti. tutti. a tutti. a tutti. a tutti. tutti. a tutti. non compare. tutti. 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 a tutti. 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 , tutti. tutti. , tutti. 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 . . tutti. tutti. . . tutti. . 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